fidanzamento fu di nuovo la signora cioklakova a pararsi da joscia per prima essa andava di gran fretta era accaduto qualche cosa di grave l'attacco isterico di katerina ivanovna era finito in uno svenimento poi le aveva sopraffatta una straordinaria tremenda prostrazione abbandonata sul letto aveva stralunato gli occhi e si era messa a delirare ora era tutta una vampa avevano mandato a chiamarle herzenstube le zie le zie erano già qui ma herzenstube non era ancora arrivato stavano là tutte in camera di lei ad aspettare in qualche modo sarebbe andata a finire lei però non riprendeva coscienza a che fare se le fosse venuta una febbre cerebrale ciambolando così la signora cioklakova aveva una faccia seria e spaurita ora le cose si sono fatte serie proprio serie ripeteva ogni momento come se tutto ciò che l'amica aveva passato prima fosse stato tutt'altro che serio agli occhi astette a sentirlo addolorato poi fece per esporle quel che era accaduto a lui ma aveva appena aperto bocca che la signora lo interruppe non aveva tempo si trattenesse un po' con l'ise e la attendesse di là l'ise mio carissimo lexiai fiodorovic mi soffiò all'orecchio l'ise mi ha procurato una tremenda sorpresa poc'anzi ma insieme a una gran commozione e perciò il mio cuore le perdona tutto immaginatevi eravate appena uscito voi che lei tutto a un tratto si è sentita invadere da un sincero rammarico di avervi preso in giro diceva lei ieri e oggi in realtà non vi ha preso in giro non ha fatto che scherzare ma era tanto serio il suo rammarico che quasi ci piangeva e questo mi ha sorpreso non era mai avvenuto finora che dimostrasse un serio pentimento dopo essersi presa a gioco di me ha fatto sempre per burla e voi sapete bene che non passa un momento che non si prenda gioco di me invece adesso faceva sul serio adesso tutto si è volto al serio e sa una stima straordinaria della vostra opinione alexei fiodorovic e se vi è possibile non vi offendete con lei perché è una testolina così adorabile lo credereste ha detto un momento fa che voi eravate il suo amico di infanzia il più serio amico della mia infanzia figuratevi un po' il più serio e io allora lei ha a questo riguardo certi sentimenti di una serietà straordinaria e certi ricordi anche ma soprattutto di queste frasi di queste parolette completamente inattese che quando meno te lo aspetti di improvviso le saltano fuori così in questi giorni a proposito di un pino per esempio c'era nel nostro giardino quando lei era ancora una bimbetta un pino o forse ancora c'è così che non è il caso di parlare al passato i pini non sono uomini ne passa nel tempo senza che mutino Alexei Fiodorovic mamma mi dice lei io mi ricordo quel pino come da un sogno ossia è ma lei si è sorpresa in un altro modo perché qui io ho fatto un pasticcio pino è una parola stupida mentre invece lei mi ha detto in proposito una cosetta così originale che proprio non tento neppure di ripeterla e poi già mi sono bella dimenticata di tutto e ora arrivederci sono tanto scossa chissà che non finisca col perdere la ragione eh Alexei Fiodorovic due volte nella vita io ho perso la ragione e hanno dovuto sottopormi a una cura andate da Lisa ricordatele un po' di spirito come voi sapete far sempre con tanta squisitezza Lisa gli ha devoce appressandosi all'uscio della giovinetta ecco che ti ho portato la vittima tua Alexei Fiodorovic e non è affatto in collera ti garantisco al contrario è tutto meravigliato che tu abbia potuto soltanto pensarlo merci mamma entrate Alexei Fiodorovic Alyosha entrò Lisa aveva un'aria un po' confusa ed improvviso si fece rossa era evidente che sentiva vergogna di qualche cosa e come sempre avviene in casi simili cominciò svelta svelta a parlare di tutt'altro argomento come se fosse appunto questo l'argomento che l'occupasse tutta in questi istanti mamma improvvisamente mi ha riferito proprio ora Alexei Fiodorovic tutta la storia di questi 200 rubli e della commissione che aveva stata data per quel povero ufficiale e mi ha raccontato tutta quella orribile storia di quando fu oltraggiato e sapete sebbene la mamma non racconti davvero troppo di filato lei salta sempre di palo in frasca pure a sentire certe cose ho pianto ebbene dite dunque lo avete consegnato questo denaro e che fa ora quel disgraziato qui sta il guaio che non ha potuto dar niente e ci sarebbe tutta una storia da raccontare rispose a Yosha il quale dal canto suo si dimostrava preoccupato soprattutto di non poter consegnare il denaro mentre Elise notava benissimo come anche lui sbirciasse di fianco e cercasse anche lui evidentemente di discorrere d'altro che dell'essenziale Yosha si sedette al tavolo e cominciò a raccontare ma fin dalle prime parole la confusione lo lasciò Elise fu trascinata a sua volta da quel che ascoltava e gli parlava sotto l'influsso di una forte emozione e delle eccezionali impressioni di poc'anzi così che gli veniva fatto di parlare bene e circostanziatamente anche nei tempi andati fin da quando era mosca Elisa era ancora bambina gli piaceva recarsi da lei e raccontarle qualche cosa che gli fosse accaduto di fresco o che avesse letto oppure abbandonarsi ai ricordi di quando erano piccoli a volte si mettevano perfino a fantasticare insieme e a comporre così a due interi racconti che però quasi sempre erano allegri e umoristici ora fu come se tutte e due si trasportassero ed improvviso in quei lontani tempi di Mosca di due anni or sono Elisa rimase profondamente toccata da quanto gli sentiva raccontare con calda emozione Agiosha seppe farlo esorgere innanzi la figura di Ilyushenka e quando ebbe terminato in tutti i particolari la scena di quell'infelice che si pestava sotto i piedi il denaro Lise batte una mano contro l'altra e ruppe in un'eccitazione incontenibile sicché non gli avete dato il denaro sicché lo avete lasciato fuggire oh mio dio ma voi potevate correre di appresso raggiungerlo no Lise è stato meglio così che io non gli sia corso dietro disse Agiosha salzò da sedere e tutto pensoso si mise a camminare per la stanza com'è stato meglio perché è stato meglio quelli adesso sono senza un boccone di pane e andranno in rovina non andranno in rovina perché questi 200 rubli finiranno pur sempre in mano loro se oggi non li ha presi li prenderà domani e domani è quasi sicuro che li prenderà esclamò Agiosha facendo su e giù tutto assorto in un suo pensiero vedete Lise continuò fermandosi di colpo di fronte a lei non ho stato proprio io a commettere uno sbaglio ma questo sbaglio è andato per il meglio quale sbaglio e in che modo per il meglio ma ecco in che modo quello è un uomo così l'anime debole di carattere è così rifinito dalle sciagure è così buono io ho seguitato a pensare finora perché mai tutto a un tratto si sarà offeso così e avrà pestato sotto i piedi quel denaro se che vi assicuro che fino all'ultimo istante non sapeva mica che lo avrebbe calpestato sotto i piedi ed ecco che mi sembra che ci siano state molte cose di cui si è dovuto sentire offeso e non poteva essere diversamente nella sua posizione prima di tutto si è sentito offeso già per il fatto che si era troppo rallegrato di questo denaro alla mia presenza e non mi aveva nascosto la sua contentezza se se ne fosse rallegrato sì ma non eccessivamente non lo avesse lasciato trasparire e avesse fatto un po' di commedia come tutti quanti nel prendere i soldi e avesse storto la bocca allora sì che avrebbe potuto tollerare di accettarli così invece la sua contentezza era stata troppo schietta e questo lo aveva fatto sentire offeso ah lise quello è un uomo sincero e buono è tutto qui sta il guaio in questi casi la sua voce mentre parlava è stata sempre così debole e stenuata e parlava così a precipizio e continuava a ridacchiare ad un certo risolino se addirittura non piangeva perché infatti piangeva tanto era il giubilo che aveva dentro e parlava delle sue figliuole e del posto che gli avrebbero dato in un'altra città e non appena si fu così rovesciato con tutta l'anima d'improvviso ecco che sentì vergogna di aver mostrato tutta la sua anima a me allora mi prese subito in odio già che quello è uno di quei poveri che si vergognano tremendamente e soprattutto si sentì offeso del fatto che sarà troppo frettato ad accettarmi per suo amico e troppo presto mi si era arreso prima mi si era scagliato contro aveva fatto la voce grossa e poi tutto entrato appena veduti i soldi mi si era buttato con le braccia al collo perché infatti mi abbracciava e con le mani continuava a toccarmi ecco in che modo ha dovuto aver l'impressione che lo si umiliasse e proprio a questo punto ho commesso quello sbaglio veramente grave non gli dico a bruciapelo che se il denaro non gli fosse bastato per il trasloco in un'altra città ne avrebbe ricevuto dell'altro e anzi io stesso gliene avrei dato dei miei risparmi finché gliene occorresse appunto questo di punto in bianco lo colpì perché avrà pensato avrò saltato fuori anch'io a offrirgli aiuto sapete Elise è una cosa terribilmente gravosa per un uomo già mortificato quando tutti si mettono a trattarlo da benefattori io l'ho sentito dire è lo starci che me ne ha parlato non so come esprimerlo ma spesso ho visto anch'io coi miei occhi e poi sapete anch'io ho questa stessa sensazione e l'importante soprattutto è che seppur lui non sapeva fino a un attimo prima di farlo che si sarebbe messo le banconote sotto i piedi e aveva tuttavia un presentimento questo è indubitato appunto la sua esultanza era tanto forte perché aveva quel presentimento ma ecco benché tutto questo sia tanto atroce in ogni modo è andato per il meglio io anzi arrivo a pensare che sia stata la miglior soluzione possibile meglio di così non la poteva andare perché perché meglio di così non la poteva andare insorse Elise e tutta meravigliata guardava agli oscia perché Elise se invece di calpestarli avesse preso quei denari allora arrivato a casa in capo un'ora al massimo avrebbe cominciato a piangere sulla sua umiliazione ecco come sarebbe finita infallibilmente avrebbe cominciato a piangere magari domani sarebbe venuto da me appena giorno e mi avrebbe rigettato là le banconote e forse le avrebbe calpestate come ha fatto poc'anzi ora invece è uscito dal colloquio tutto pieno di fierezza e quasi trionfante pur avendo la consapevolezza di essersi rovinato ma questo significa che non c'è niente di più facile ora che indurlo ad accettare questi 200 rubli non più tardi di domani e che ormai quel senso abbia del proprio onore l'ha ben dimostrato scaraventando a terra quel denaro e montandoci sopra quei piedi né egli poteva sapere mentre lo calpestava così che io domani sarei andato a riportarglielo e intanto la realtà è che questi denari gli sono tremendamente necessari per quanto fiero possa ora sentirsi di come ha agito tuttavia credo che entro oggi stesso comincerà a pensare di quale aiuto si è privato col venire della notte il pensiero si farà ancora più forte ti sognerà sopra e domani mattina a buon conto e domani mattina a buon conto sarà pronto a correre da me e a chiedere perdono e allora sarà il momento che io mi faccia avanti ecco gli dirò voi siete un uomo che ha della fierezza e lo avete dimostrato a sufficienza ebbene ora accettate vogliate perdonarci e a questo punto ecco fatto lui accetterà in una specie di inebriamento Agiosha pronunciò le parole e a questo punto ecco fatto lui accetterà Lisa batte una palma contro l'altra ah questo è vero ah come l'ho capito bene tutto a un tratto ah Agiosha ma come fate a sapere tutto questo così giovane e già sa quel che è nell'anima io non avrei mai saputo immaginarlo la cosa principale ora è che egli si persuada di essere con tutti noi su un piede d'uguaglianza nonostante questo denaro che prenderà da noi rispose Agiosha nel suo inebriamento e non solo su un piede d'uguaglianza ma anzi su un piede di superiorità su un piede di superiorità simpaticissima frase Alexei Fiodorovic ma seguitate seguitate già mi sono espresso male con quel piede di superiorità ma questo non importa perché ah non importa non importa si capisce che non importa scusate Agiosha mio caro sapete fino a questo momento io non vi stimavo granché cioè vi stimavo ma su un piede d'uguaglianza ma d'ora innanzi sarà su un piede di superiorità caro non vi inquietate se io faccio dello spirito soggiunse subito alla giovinetta con un tono pieno di sentimento io sono burlona e piccina ma voi voi ascoltate Alexei Fiodorovic non c'è però in tutti questi ragionamenti nostri cioè vostri no passi pure per nostri non c'è un certo disprezzo per lui per quell'infelice in quanto noi sottoponiamo così la sua anima alle nostre analisi come dall'alto mi spiego in questo fatto per esempio di aver sentenziato con tanta sicurezza che egli accetterà il denaro capite che voglio dire no disse non c'è disprezzo rispose sicuro agli oscia come se fosse già pronto a quella domanda ci ho già pensato anch'io mentre venivo qui geticate da voi che disprezzo ci può mai essere una volta che anche noi altri siamo tale quali a lui e tutti quanti sono tale quali a lui già che infatti siamo anche noi tale quali e niente di meglio che se poi fossimo pure qualcosa di meglio saremmo però tale quali se si trovassimo al suo posto non so quale sia l'impressione vostra ma io per conto mio ritengo di avere in molte cose un'anima gretta mentre in lui non c'è un'anima gretta ma anzi grandemente delicata no lise il mio Starec ha detto una volta gli uomini vanno assistiti né più né meno che come tanti bambini e alcuni poi come si assistono i malati in clinica ma Alexei Fiodorovic ah caro amico mio forza dunque ad assistere gli uomini come malati forza lise io sono pronto se non che nel più intimo non sono perfettamente pronto a volte sono tanto impaziente altre volte non ho neppur l'occhio acuto oh voi siete ben diversa ah non credo davvero Alexei Fiodorovic come mi sento felice gran bella cosa che voi diciate così lise Alexei Fiodorovic voi siete ad una bontà stupefacente ma certe volte avete un po' del pedante mentre poi a badar bene non siete affatto un pedante andate un po' a dare un'occhiata alla porta apritela ad agino e guardate se alle volte non ci stesse ascoltando mammina bisbigliò lise ad un tratto in un nervoso frettoloso bisbiglio aglio ci andò scostò appena la porta e riferì che non c'era nessuno in ascolto avvicinatevi qua Alexei Fiodorovic riprese lise allora facendosi man mano più rossa datemi la mano ecco così sentite io devo confessarvi una cosa grossa la lettera di ieri non ve l'ho scritta per scherzo l'ho scritta sul serio e con la mano sarà coperta agli occhi si vedeva che una gran vergogna la pungeva a questa confessione a bruciapelo afferrò la mano di lui e impetuosamente la baciò tre volte ah lise così sì che va bene gioiosamente esclamò agli oscia ma io sapete ero già pienamente convinto che avreste scritto seriamente pienamente convinto sentitelo un po' le scostò bruscamente la mano di lui curtenendola sempre nella sua mano mentre si faceva tremendamente rossa rideva ad un piccolo riso felice io gli ho baciato la mano e lui dice così sì che va bene ma questo suo rimprovero era ingiusto agli oscia era anch'egli profondamente turbato io vorrei sempre piacervi lise ma non so come riuscirci mormorò alla meglio facendosi rosso anche lui agli oscia caro voi siete freddo e insolente mettete un po' infatti si è degnato bontà sua di scegliermi per sua consorte e ha fatto questo si è messo l'anima in pace era già convinto a lui che io gli avessi scritto seriamente come no ma questa si chiama impertinenza bella e buona ecco come si chiama ma forse sia qualcosa di male che io ne fossi già convinto scoppiò a ridere agli oscia agli oscia al contrario non si può dire quanto è stato bene con uno sguardo di tenerezza e di felicità lo sfierò lise agli oscia in piedi teneva pur sempre la mano nella mano di lei di colpa si chinò e la baciò proprio sulle labbra e che succede ora che cosa vi piglia esclamò lise agli oscia finì di smarrirsi completamente perdonatemi se non dovevo ho agito forse in modo tremendamente stupido voi avete detto che sono freddo e io ho preso e vi ho baciata ma vedo che è riuscita una cosa stupida lise scoppiò a ridere e si coprì il viso con le mani e con codesti panni indosso ne sfuggì fra il ridere ma tutto un tratto smise di ridere e si fece seria quasi severa bene agli oscia bisogna che noi aspettiamo ancora coi baci perché è una cosa che nessuno dei due sappiamo fare e tempo di aspettare ne abbiamo tanto innanzi concluse bruscamente piuttosto ditemi perché mi volete in moglie una sciocca come me una scioccarella male in salute voi che siete così intelligente così riflessivo così perspicace ah agli oscia io sono terribilmente felice perché non valgo neppure la metà di voi un momento lise a giorni io uscirò dal convento definitivamente uscendo nel mondo bisogna ammogliarsi questo lo so bene anche lui mi ha ordinato così e allora chi potrei prendere meglio di voi e chi tranne voi potrebbe prendere me ci ho pensato sopra a lungo in primo luogo voi mi conoscete fin da bambina e in secondo luogo ci sono in voi molte qualità che in me assolutamente difettano voi avete un'anima più lieta di me voi soprattutto siete più innocente di me mentre io ho già sfiorato tante cose ah voi non lo sapete ma sono anch'io un Karamazov quanto poi alla passione che avete di ridere e di burlarvi ebbene di me per primo anzi ridete su e burlatevi che io ne sarò contento ma voi ridete come una bambina di pochi anni e intanto avete dei pensieri da martire come da martire che volete dire si Lise quella vostra domanda poco fa se noi ci fosse del disprezzo per quell'infelice mentre facevamo a quel modo l'anatomia della sua anima quella è una domanda da martire vedete non riesco ad esprimere quel che voglio dire ma a chi domande simili si affacciano costui ha una grande idoneità a soffrire seduta nella vostra poltrona voi avete dovuto già fin d'ora pensare molte cose agli oscia lasciatemi la vostra mano perché me la togliete mormorò Lise con una piccola voce fatta debole dalla felicità e come affiocchita ascoltate agli oscia in che modo vi vestirete quando uscirete dal convento che abito porterete non mettetevi a ridere e non vi inquietate è una cosa per me molto importante quanto all'abito Lise io non ci ho ancora pensato ma come piacerà a voi così mi vestirò io voglio vedervi indosso una giubba di velluto ad un blu scuro un gilet di basino bianco e un cappello floscio grigio di castoro ditemi ci avete creduto poc'anzi che non vi amassi quando ho ritirato la lettera di ieri no non ci ho creduto oh ma che tipo insopportabile incorreggibile vedete io sapevo che voi mi e quanto penso mi amate ma ho fatto finta di credere che non mi amaste in modo che voi vi trovaste più a vostro agio di male in peggio peggio non si potrebbe e insieme non si potrebbe meglio agli oscia è tremendo quanto mi piacete poc'anzi prima che voi veniste avevo almanaccato con me stessa gli chiederò una lettera di ieri e se lui tranquillamente la tirerà fuori e me la ridarà come da lui ci si può aspettare benissimo allora significa che non mi vuole un'ombra di bene che non ha il minimo sentimento e non è altro che uno stupido e indegno ragazzo e io son perduta ma voi avete lasciato la lettera in cella e questo ma rincorata dite la verità non la avete lasciata la in cella perché avevate il presentimento che io ve l'avrei richiesta e così avreste evitato di consegnarmela è così è vero che è così oh lise non è proprio per niente così la lettera vedete l'ho qui adesso come l'avevo allora ecco in questa tasca eccola qua agli oscia aveva tratto fuori ridendo la lettera e non mostrava a lei di lontano però non ve la ridò guardatela di fra le mani mie come dunque poc'anzi voi avete mentito voi che siete un monaco avete mentito che volete ho mentito lise anche agli oscia pur di non darvi la lettera ho mentito essa a me molto cara soggiunse a un tratto con profondo calore di nuovo arrossendo e così mi sarà in eterno e a nessuno la darò mai lise lo avvolgeva ad uno sguardo trepudiante agli oscia sussurrò di nuovo date un'occhiata alla porta alle volte mammina ci stesse orgliando va bene lise ora ci guardo ma non sarebbe meglio non guardarci affatto che ne dite perché sospettare vostra madre ad una bassezza simile come di una bassezza quale bassezza questo di stare in ascolto dietro l'uscia di sua figlia sarebbe un suo diritto non una bassezza reagì lise state pur sicure le sei Fiodorovich che quando io sarò madre e avrò una figlia come ora sono io non rinuncerò davvero a origliare dietro il suo uscio dite sul serio lise questa è una cosa che non sta bene ah dio mio ma che bassezza volete che ci sia se stesse a origliare una delle solite conversazioni di salotto allora si che sarebbe una bassezza ma qui è sua figlia che si è chiusa insieme con un giovanotto sentite agli oscia mettetevi bene in testa che anche voi terrò d'occhio non appena ci saremmo sposati e mettetevi pure in testa che tutte le lettere io ve le aprirò e le leserò da cima a fondo dunque tenetevi per avvisato sì in fin dei conti se volete così borbottò agli oscia però è una cosa che non sta bene oi che tono sprezzante agli oscia mio caro non vorremmo mica litigare fin dalla prima volta io vi dirò piuttosto la verità come sta non vi dubbio d'accordo che sia una gran brutta cosa sorrigliare è d'accordo quindi ti ho torto io che voi avete ragione ma io tuttavia ascolterò lo stesso dietro l'uscio fate pure non avete da scoprire con me niente di straordinario si mise a ridere agli oscia agli oscia e voi vi adatterete a sottomettervi a me anche questa è una cosa che bisogna decidere a tempo assai volentieri lise e come no eccettuate soltanto le cose di suprema importanza nelle cose di suprema importanza se ci troveremo in disaccordo io agirò ugualmente come il dovere mi comanda e così deve essere sappiate dunque che io al contrario non solo sono pronta a sottomettermi nelle cose di suprema importanza ma in ogni cosa vi cederò e fin d'ora ne faccio giuramento in ogni cosa e per tutta la vita esclamò lise ardentemente questo mi farà felice non solo ma vi giuro che non sarà mai chi origlia il vostro uscio mai e poi mai e neppure una delle vostre lettere mi permetterò di leggere perché voi siete nel giusto ma io no e se anche mi prendesse una voglia terribile di origliare io già me l'aspetto pure me ne asterrò se che voi la giudicate una cosa ignobile voi ora siete come la mia provvidenza ascoltatemi Alexei Fiodorovic che motivo avete ad essere così triste in questi giorni tanto ieri che oggi so che avete delle preoccupazioni delle contrarietà ma io mi accorgo che in più di tutto questo sa in voi come una tristezza particolare di un segreto forse si lise anche di un segreto tristemente rispose agli oscia vedo che mi amate se siete arrivati a indovinarlo ma com'è questa tristezza di che cosa si può dire in tono di timida supplica esclamò Elise più tardi ve lo dirò Elise più tardi si turbò agli oscia adesso magari non sareste neppure in grado di comprendere e poi sarei io anzitutto che non saprei dirvelo a parte questo so che i vostri fratelli vi fanno soffrire vostro padre sì anche i miei fratelli disse agli oscia come assorto in un suo pensiero a me vostro fratello Ivan piace poco agli oscia di punto in bianco rilevò Elise agli oscia notò il rilievo con una certa meraviglia ma non stette a raccoglierlo i miei fratelli si rovinano da sé continuò mio padre altrettanto e anche altre persone portano alla rovina insieme con loro è quella forza terrestre dei Karamazov come padre Pazif espresso in questi giorni terrestre e irrefrenabile brutta se c'ha leggi lo spirito santo al di sopra di questa forza non lo so neppure so soltanto che sono anch'io un Karamazov io un monaco un monaco sono un monaco io Elise voi dicevate Aurora mi pare che io sono un monaco sì l'ho detto e pensare che forse ecco non credo neppure in Dio non ci credete ma che cosa vi accade un tono delicato e discreto disse allora Elise ma gli oscia non diede risposte c'era in quelle sue parole così repentine qualche cosa di troppo misterioso e di troppo soggettivo che forse restava oscuro a lui stesso seppure indubbiamente lo tormentava ed ecco che ora oltretutto l'amico mio se ne va l'uomo migliore di questa terra ne abbandona se voi sapeste Elise se voi sapeste come sono legato come sono saldato spiritualmente a quell'uomo ed ecco che ormai rimarrò solo da voi verrò a rifugiarmi Elise da oggi in poi staremo insieme sì insieme insieme ormai sempre insieme per tutta la vita sentite baciatemi ve lo permetto agli oscia la baciò e ora andate che Cristo va compagni ed essa gli fece il segno della croce andate senza tardare da lui finché è in vita ma accorgo che io sono stata crudele a trattenervi pregherò oggi per lui e per voi agli oscia noi saremo felici saremo proprio felici non è vero io credo che lo saremo Elise uscendo dalla camera di Elise agli oscia non credette neppure passare di là dalla signora cioclacova e senza congedarsi da quest'ultima sarà già avviato verso l'ingresso ma aveva appena aperto la porta ed era uscito sulle scale quando come di sotterra gli sbucò innanzi la signora cioclacova in persona subito agli oscia indovinò che era stata là apposta ad attenderlo Alexei Fiodorovic è una cosa tremenda queste sono bagatelle da bambini sono tutte cose campate in aria spero che voi non avrete l'intenzione di abbandonarvi a certe fantasticaggini sciocchezze sciocchezze nient'altro che sciocchezze lo credì la signora purché non diciate così a lei disse agli oscia lei se ne agiterebbe e questo ora le riuscirebbe nocivo intendo la saggia parola ad un giovane saggio posso star sicura dunque che voi la avete assecondata unicamente perché non volevate per pietà delle sue cattive condizioni di salute irritarla con dei contrasti ah no tutt'altro io le ho parlato con la più gran serietà in tono fermo dichiarò agli oscia la serietà in questo caso è inammissibile inconcepibile anzitutto io d'ora in avanti non vi prenderò in casa mai più secondariamente partirò di qui e la porterò via con me sappiatero bene ma perché disse agli oscia non è mica una cosa così imminente ci sarebbe ancora forse un anno e mezzo da aspettare ah l'exe pietrovic questo è vero indubbiamente e in termine di un anno e mezzo avrete tempo le mille volte di bisticciar tra voi e di lasciarvi ma io mi sento così infelice così infelice sia pure che si tratti di balloccaggini ma sono rimasta ugualmente esulcerata ma ora mi trovo nella situazione di Famuzov all'ultimo atto voi siete Chaki lei è Sofia e pensate un po' son corsa apposta qui sulla scala per incontrarmi con voi proprio come anche là le scene più fatali si svolgono sulla scala io ho ascoltato tutto e non so come ho fatto a resistere ecco dunque la spiegazione delle follie di tutta stanotte e di tutte le crisi isteriche di poc'anzi la figlia è innamorata e la madre ne muore posso pure scavarmi la fossa e ora al secondo punto che è il più importante che cos'è questa lettera che lei vi ha scritto mostratemela immediatamente immediatamente no non è il caso ditemi come sta Caterina Ivanovna ho gran bisogno di saperlo continua a delirare non ha ancora ripreso coscienza le sue zie sono qui e non fanno che sospirare e arricciare il naso quando mi vedono e quando Herzenstube è venuto e si è spaventato in un modo che io non sapevo che bene faglio e come soccorrerlo anzi volevo mandare a chiamare un dottore lo hanno portato via nella mia carrozza ed improvviso per colmar la misura ecco qua voi con codesta lettera è vero sì che di tutto questo si riparlerà di qui a un anno e mezzo ma in nome di tutto ciò che vedi più alto e di più santo in nome del vostro stare ci morente lasciate che io veda questa lettera Alexei Fiodorovic io che sono sua madre se preferite così tenetela fra le dita e io la leggerò di mano a voi no non ve la farò vedere Caterina Osipovna e se anche lei ne desse il permesso non ve la farò vedere domani tornerò e se voi volete discorreremo di molte cose ma per il momento arrivederci Alexei di corsa scese giù in strada Smerdyakov suona la chitarra non aveva infatti tempo da perdere un pensiero gli era balenato fin da quando si stava concedendo da Lise quale sarebbe stato il modo migliore di pescar subito suo fratello Dimitri che evidentemente cercava di sfuggirgli non era più tanto presto erano le tre dopo mezzogiorno con tutto l'essere Agiosha tendeva al monastero al suo sublime moribondo ma la necessità di vedere il fratello Dimitri sovrastava a tutto il resto d'ora in ora nella mente di Agiosha ingigantiva la persuasione dell'inevitabile orrenda catastrofe pronta ad avverarsi in che cosa precisamente consistesse quella catastrofe e che cosa avesse da dire in questo momento al fratello Dimitri non avrebbe forse saputo definirlo neanche lui avvenga pure che il mio benefattore muoia mentre io sono lontano ma almeno non avrò a rimproverarmi per tutta la vita che forse avrei potuto salvare qualcosa e non l'ho salvato ho tirato di lungo ho seguitato il fatto mio comportandomi in questo modo agisco secondo la sua sublime parola il suo disegno era di cogliere il fratello Dimitri di sorpresa e più precisamente scavalcare come ieri quello steccato entrare nel giardino e appostarsi in quel chiosco se lui non c'è pensava agli oscia allora senza dir niente né a foma né al padrone rimpiattarsi nel chiosco e aspettare fosse anche fino a sera se continua come al solito a spiare la venuta di Grushenka è molto probabile che lì nel chiosco ci capiti del resto agli oscia non stava a esaminare troppo per sottire i particolari del suo disegno aveva deciso semplicemente di portarlo a compimento dovesse pure non tornare al monastero per oggi tutto ci svolse senza inciampi scavalcò lo steccato quasi nello stesso identico posto di ieri e di soppiato sinoltrò fino al chiosco non voleva che s'avvedessero di lui tanto le padrone quanto Foma se c'era in casa avrebbero potuto tenere mano a Dimitri ed eseguire i suoi ordini vale a dire o non permettere che agli oscia entrasse in giardino o avvisare in tempo il fratello che lo cercavano nel chiosco non c'era nessuno agli oscia si sedette al suo posto di ieri e cominciò ad aspettare girando un'occhiata al chiosco questo gli apparve chissà perché assai più decrepito che ieri come gli sembrò miserabile in questo momento eppure la giornata era limpida né più né meno che ieri sul tavolo verniciato di verde era rimasto segnato un tondino dove ieri il bicchierino del cognac doveva aver traboccato pensieri fatui e sconvenienti al momento come avviene sempre durante la noia dell'attesa gli si insinuavano nel cervello per esempio per quale ragione nell'entrare ora qui dentro sarà seduto per l'appunto nello stesso identico posto in cui era stato seduto ieri e non in un altro alla fine venne a invaderlo una gran tristezza una tristezza che gli derivava dall'inquietudine dell'ignoto ma non era rimasto in attesa un quarto d'ora in tutto quando d'improvviso vicinissimo risuonò un accordo di chitarra c'era qualcuno o era sopravvenuto in questo istante a una ventina di passi da lui non di più là fra i cespugli e sovvenne dagli osce d'un tratto che uscendo ieri dal chiosco dopo il colloquio col fratello aveva veduto o piuttosto gli era baluginata allo sguardo a sinistra lungo il racinto una vecchia bassa panchina verde da giardino nascosta fra i cespugli su questa ora dovevano aver preso posto i nuovi venuti chi sarà stato d'improvviso una voce maschile attaccò a cantare in un falsetto smaccato un cuplè accompagnandosi con la titarra un indomito amore mi brucia per il mio amore abbi pietà o signore di lei e di me di lei e di me di lei e di me la voce tacque era una voce tenorile dalla che e dalla che erano le modulazioni della canzonetta un'altra voce di donna questa volta disse a un tratto carezzevole e timida ma con una punta di affettazione perché state così a lungo senza venire a trovarci Pavel Fiatonovic perché tutto questo disprezzo per noi niente affatto rispose la voce maschile cortese sì ma piena di tenacia e incrollabile sussiego evidentemente l'uomo stava sulla sua e la donna si provava a stuzzicarlo l'uomo dov'essere smerdiakoff pensò agli oscia almeno a giudicare dalla voce e la dama probabilmente sarà la figlia della padrona qui della casetta quella che è tornata da mosca porta l'abito con lo strascico e va a prendere la minestra da marfa ignategmla quanto mi piacciono i versi quando sono composti a dovere continuò la voce femminile perché non seguitate e allora di nuovo l'altra voce intonò darai la corona d'imperatore perché stesse bene al mio amore abbi pietà o signore di lei e di me di lei e di me di lei e di me l'altra volta vi riuscì ancora più bella commentò la voce della donna voi cantaste lì al punto della corona purché stesse bene il mio dolce amore così c'era ancora più tenerezza forse oggi vi è sfuggito di mente i versi sono tutte stupidaggini ah no a me i versi piacciono tanto se consideriamo che cosa sono i versi bisogna dire che sono stupidaggini e basta getticate da voi c'è nessuno al mondo che parli in rima e se noi ci mettessimo a parlare in rima fosse magari per ordine del governo si riuscirebbe a concludere granché i versi sono tutto fumo Maria contra tevna e come fate a intendervi così da ogni cosa come sarà che vi siete approfondito così in tutti i rami si faceva man mano più carezzevole la voce della donna ben altro che questo avrei potuto fare io ben altro che questo avrei potuto sapere se non avessi avuto questo destino fin da quando ero in fasce in duello con la pistola avrei ammazzato chi mi avesse detto che sono un miserabile per la ragione che sono figlio non si sa di chi ed una fetente mentre c'è stato chi a mosca mi ha spiattellato così proprio in faccia che grazie a Grigori Vasilievich fillane ha raggiunto il sussurro Grigori Vasilievich mi rimprovera di ribellarmi contro la mia nascita tu dice lui le hai squarciato le viscere va bene che gliela avrò squarciate ma io per conto mio avrei permesso che mi si uccidesse ancora nell'utero purché al mondo non ci fossi venuto affatto al mercato dicevano e vostra madre è venuta anche lei raccontarmelo con la solita enorme indelicatezza che quella là andava in giro con la testa piena di cirragra ed altezza era in tutto un metro e quaranta o qualcosellina di più perché mai qualcosellina quando si può dire tanto bene qualcosa come dice tutta la gente voleva parlare in tono pietoso e così lei è venuta fuori per così dire una lacrimetta contadinesca come erano contadineschi i sentimenti che aveva dentro che sentimenti può avere mai a confronto di un uomo evoluto un contadino russo data la sua ignoranza non può avere nessun sentimento io fin da quando ero piccolo bastava che sentissi dire qualcosellina che mi sarei avventato contro il muro la russia m'è tutta odiosa maria contratevna se voi foste un tenentino dell'esercito o un usseretto di quelli con tanto di baffi non parlereste così ma sfoderereste la sciabola e la russia la difendereste tutta quanta io non solo non ho nessun desiderio di essere un usseretto maria contratevna ma desidero anzi la sparizione di tutti i soldati e quando il nemico venisse chi ci difenderebbe allora ma non ce n'è proprio alcun bisogno nell'ottocento dodici la russia subì la grande invasione dell'imperatore napoleone primo il francese padre di quello attuale e magari allora ci avessero assoggettato questi francesi una nazione civile ne avrebbe assoggettata un'altra tanto stupida e l'avrebbe riunita a sé allora sì che sarebbe cambiato a fondo anche il nostro modo di vivere ma è proprio vero poi che sono tanto meglio di noi altri per conto mio un giovanottino dei nostri di quelli che dico io non lo cambierei nemmeno con tre di quelli inglesi disse vezzosamente maria contra tevna e si indovinava che in quel momento accompagnava le sue parole col più languido dei suoi sguardi questo è affare di giusti ma sapete che voi rassomigliate tale quale a un forestiero a un forestiero di quelli proprio distinti voglio dirvelo anche se me ne vergogno se volete saperlo per quanto riguarda la viziosità sia da loro sia da noi altri siamo tutti compagni tutti canaglie lo stesso ma con la differenza che là il farabutto gira in scarpette di coppale mentre qua da noi impuzzisce nella sua miseria e non ci trova niente di male il popolo russo va trattato col busso come giustamente diceva ieri Fyodor Pavlovich benché poi sia un matto bello e buono lui e tutti i figli suoi se Ivan Fyodorovich l'avete detto voi stesso lo stimate tanto e lui è andato a dire che io sono un fetido lacchè mi crede tipo da rivoltarmi da far fracasso ma si sbaglia se avessi in tasca una sommetta come dico io da un pezzo sarei sparito di qui Dimitri Fyodorovich è peggio assai di qualsiasi lacchè sia di maniera sia di cervello per non dire che non ha il becco di un quattrino non è buono a far niente eppure è rispettato da tutti io per esempio sono un semplice imbrattapentole ma se avessi un colpo di fortuna potrei andarmene a Mosca e aprire un caffè ristorante in via Petrovka perché io in cucina so preparare le specialità e non ce n'è uno là a Mosca tranne i forestieri che sappia servire delle specialità Dimitri Fyodorovich è un pezzente e basta ma se sfidasse a duello il figlio del più gran conte in persona quello si batterebbe con lui eppure a paragone di me che ha di meglio non c'è mica confronto quanto è più stupido di me non fosse altro tutti i quattrini che ha buttato via senza nessun costrutto il duello oh che bella cosa deve essere notò a un tratto Maria contra Tevna in che senso scusate sapete che in momenti d'ansia ed eroismo specialmente quando due ufficialetti di quelli giovani con le pistole in mano si sparano addosso per causa di qualche donna deve essere una gran scena se alle ragazze fosse permesso d'assisterci andrai pazza per vedere sarà bello quando uno mira a quell'altro ma quando gli mirano nel grugno a lui allora deve essere un'impressione proprio curiosa sarebbe da scapparsene via Maria contra Tevna o che forse voi scappereste ma Smerdiagov non si degnò di risponderle dopo un minuto di silenzio risonò di nuovo un accordo di chitarra e il falsetto si innalzò nell'ultimo cuplè costi quel che costi lascerò questi posti la vita mi godrò e in città vivrò nessun rimpianto avrò nessun rimpianto avrò di sentire l'impianto proprio vogliano a questo punto ci fu un incidente imprevisto Agli oscia d'improvviso starnutì e sulla panchina di colpo ammutolirono Agli oscia si levò e si avviò verso di loro era proprio Smerdiagov vestito in gran gala impomatato e quasi quasi arricciato in stivaletti di coppale la chitarra gli stava a fianco sulla panchina la dama era Maria contra Tevna la figlia della padrona indossava un vestito azzurro chiaro con un metro e mezzo di coda era una ragazza ancora giovane e non sarebbe stata brutta se il viso non fosse stato troppo tondo e tutto picchiettato di lentiggini mio fratello Dimitri tornerà presto disse Agli oscia col tono più calmo possibile lentamente Smerdiagov si tirò su dalla panchina si tirò su anche Maria contra Tevna e perché mai dovrei sapere io gli affari di Dimitri Fiodorovic sarebbe un altro conto se stessi qui a fargli la guardia con voce tranquilla ben scandita e piena di trascuranza rispose Smerdiagov ma io ho domandato semplicemente se ne sapeste qualche cosa piegò Agli oscia non so nulla di quanto starà via e neppure ho voglia di saperlo ma mio fratello mi ha detto lui stesso che siete proprio voi a informarlo di tutto quello che succede in casa e gli avete promesso di fargli sapere quando verrà Grafina Aleksandrovna Smerdiagov lento e imperturbabile gli piantò gli occhi addosso e voi scusate come siete entrato qui dentro se il portone da più di un'ora sta chiusa chiave domandò guardando Agli oscia ben fisso io sono venuto dal vicolo scavalcando lo steccato diretto al chiosco spero che me ne vorrete scusare se rivolse a Maria Contratevna avevo bisogno di trovare d'urgenza mio fratello ah possiamo mai offenderci con voi cantile no Maria Contratevna lusingata dalle scuse di Agli oscia tanto più che Dmitri Fiodorovic spesso e volentieri adopra questo modo per venire al chiosco sicché noi non ne sappiamo niente e lui è già lì nel chiosco lo sto cercando ora tanto d'urgenza avrei tanto desiderio di vederlo o di sapere da voi dove si trova in questo momento credetemi strato ad un affare che anche per lui è di grande importanza il Signore a noi altre non ci dice mai nulla biascicò torcendo il bocchino Maria Contratevna sebbene io sia venuto qui soprattutto per la conoscenza che abbiamo rispose Smerdyakov pure quello lì ne ha approfittato per tormentarmi senza pietà accanendosi a farmi domande intorno al padrone che succede e che non succede in casa sua chi ci entra e chi ne esce e dagli a pregarmi di fargli sapere qualche cosa e già due volte mi ha perfino minacciato d'ammazzarmi come? d'ammazzarti? o che forse gli parrebbe gran cosa con quel carattere che ha come ieri avete potuto vedere voi stesso Bada mi ha detto che sia Grafena Aleksandrovna la lasci passare senza vedertene e l'hai per notta qui tu sarai il primo a pagarlo con la vita è un uomo che mi fa proprio paura e se non avesse ancora più paura a farlo lo dovrai denunciare alla polizia il Dio solo sa che cosa non è capace di fare una di questi giorni gli ha detto ti pesto dentro a un mortaio incalzò Maria Contratevna oh quanto a questo forse l'ha detto tanto per dire e commentò agli oscia se io potessi trovarlo subito potrei dirgli qualche cosa anche in proposito ecco tutto quello che posso dirvi sembrò decidersi a parlare Smerdyakov io mi trovo qui per la conoscenza che c'è stata sempre fra me e le nostre vicine e perché non ci sarei dovuto venire d'altra parte Ivan Fyodorovich stamane appena giorno mi ha mandato da lui al suo appartamento in via del lago senza nessun biglietto perché gli dicessi a voce che si recasse immancabilmente alla trattoria qui in piazza per pranzare insieme io ci sono andato ma Dmitry Fyodorovich l'ha in casa sua non ce l'ho trovato benché fossero al massimo le otto c'è stato dice poi se n'è uscito così mi hanno detto i suoi padroni di casa e nient'altro quella gente mi è parso che avesse un modo di parlare un po' strano come a doppia faccia io penso che a quest'ora starà mangiando in quella trattoria insieme con suo fratello Ivan Fyodorovich dato che Ivan Fyodorovich non è venuto a casa per pranzo e Fyodor Paulovich ha destinato da solo già da un'ora e adesso si è coricato a far la siesta mi raccomando però per carità che di me e di quanto vi ho detto non gli facciate parola già che quello per un non nulla è tipo da ammazzarti mio fratello Ivan ha invitato Dmitry oggi in trattoria rapidamente si assicura meglio agli oscia per l'appunto alla trattoria la capitale in piazza proprio quella può darsi benissimo esclamò gli oscia grandemente agitato vi ringrazio Smerdiakov è una notizia preziosa ci vado senz'altro non traditemi vi supplico gli si raccomandò dietro Smerdiakov oh no mi presenterò alla trattoria come per caso state tranquillo ma dove passate io vi aprirò il cancelletto gridò troppo tardi Maria Contratevna no di cui si fa prima ripasso per lo steccato l'informazione aveva prodotto su agli oscia un'impressione profonda in gran fretta si avviò alla trattoria entrare in quel locale con l'abito che aveva indosso era cosa sconveniente ma informarsi sulla scala e chiamarli fuori era fattibile se non che stava appunto per giungere alla trattoria quando di colpo s'aprì una finestra e il fratello Ivan in persona da quella finestra gli gridò giù in strada agli oscia puoi venire subito su o non ti è possibile mi faresti un favore immenso sì che posso non so come fare però col vestito che ho ma nemmeno a farlo apposta io mi trovo in una stanza separata fatti all'ingresso che ti corro incontro un minuto più tardi agli oscia sedeva a tavola con suo fratello Ivan era solo e stava desinando non si trovava però Ivan in una stanza separata era soltanto in un cantone presso la finestra riparato in tutto da un paravento seppure in modo che gli avventori di là del paravento non potevano vedere chi stava qua in disparte la stanza era quella d'entrata la prima col buffet alla parete laterale incessante era il viavai dei camerieri da vent'ori c'era soltanto un vecchiotto militare in pensione che in un angolo prendeva il tè nelle altre stanze della trattoria invece era il solito tramestio di quei luoghi risuonavano gridi di richiamo chiocchi di bottiglie stappate cozzi di palle da biliardo e l'organetto di barberia accresceva il frastuono aliosha sapeva che in questa trattoria ivan non ci veniva quasi mai e che le trattorie in genere gli piacevano poco non doveva esserci quindi altra ragione che si trovasse qui pensò egli fuorché quella di incontrarsi con dimitri giusta l'invito che gli aveva fatto eppure dimitri non c'era ti farò venire una zuppa di pesce o qualche altra cosa non vorrai mica campare di te nient'altro esclamò ivan a voce alta straordinariamente contento di vedersi venire al tavolo agli oscia lui aveva già terminato di mangiare e stava prendendo il tè fammi venire un po' la zuppa di pesce e dopo fammi venire anche il tè mi è proprio arrivata la fame allegro rispose agli oscia è un po' di marmellate di cilieze qui ne hanno ti rammenti quando eri piccolo da dai polenov quanto ti piaceva la marmellata di cilieze e tu ti rammenti di questo fammi portare anche la marmellata anche adesso mi piace ivan sono al cameriere gli ordinò la zuppa il tè e la marmellata io mi rammento di tutto agli oscia mi rammento di te quando avevi undici anni e io allora ne avevo quindici quindici e undici è una differenza che a quell'età impedisce sempre ai fratelli di essere compagni non so se neppure ti volessi bene quando fui partito per mosca nei primi anni non mi ricordavo più affatto di te più tardi quando anche tu venisti a mosca mi sembrava che una volta sola non so dove ci rivedemmo ed ecco che ora sono già quattro mesi che vivo qui e fino ad oggi non ci siamo detta una parola domani io parto e così stavo pensando seduto qui mi piacerebbe vederlo dirsi addio e proprio in quel punto tu passi qui sotto dunque desideravi tanto di vedermi tanto voglio conoscerti una volta per sempre e farmi conoscere da te e fatto questo dirsi addio secondo me la miglior cosa è di far conoscenza prima di separarsi mi sono accorto come mi guardavi in questi tre mesi nei tuoi occhi c'era di continuo come un'attesa ed è questo che io non posso soffrire e perciò non ti avvicinavo ma finalmente ho imparato a stimarti è un ometto ho detto fra me piantato ben saldo vada che ora io rido ma parlo sul serio non è vero che stai piantato ben saldo di quelli così ben saldi a me piacciono dovunque poi stiano piantati e anche se si tratta di piccoli marmocchi come te il tuo sguardo d'attesa ha finito col diventarmi tutt'altro che antipatico anzi ha finito col diventarmi caro anzi ha finito col diventarmi caro questo tuo sguardo d'attesa sembra che tu non so perché mi voglia bene Giosha io ti voglio bene Ivan nostro fratello Dimitri dice di te Ivan è una tomba io dico Ivan è un enigma tu anche adesso per me sei un enigma ma qualcosa ho già capito di te e questo proprio stamattina che cosa dunque si mise a ridere Ivan ma non ti inquieterai rise anche Giosha su via questo che tu sei né più né meno che un giovane come tutti gli altri di 23 anni altrettanto giovanile fresco e buon ragazzo proprio un ragazzo di becco tenero non ti avrò mica offeso troppo al contrario ma è colpito per la coincidenza allegro il vivace esclamò Ivan ci credi che io da quando poche ore fa ci siamo visti in casa di lei non ho fatto altro che pensare a questo a questa mia 23enne tenerezza di becco e tu ora d'improvviso si direbbe che l'hai indovinato e proprio di qui mi viene a incominciare io poc'anzi me ne stavo qua sai che mi dicevo sia pure che non ci creda nella vita sia pure che non ci creda più nella donna amata non creda più nell'ordine dell'universo mi persuada anzi che tutto non è altro che un disordinato maledetto e forse diabolico caos e mi vulnerino tutti gli orrori dell'umano disinganno ma io avrò pur sempre volontà di vivere e ciò che sono capitato a portata di questa coppa non me ne strapperò finché non ne avrò visto il fondo dal resto sui 30 anni potrò anche gettar via la coppa seppure non l'avrò bevuta tutta e andarmene non so dove ma finché non abbia 30 anni io sento con sicurezza tutto rimarrà vinto dalla mia gioventù qualsiasi disinganno qualsiasi avversione per la vita mi sono chiesto tante volte se possa darsi al mondo una disperazione tale da sopraffare in me questa impetuosa forse smodata brama di vivere e mi sono dovuto rispondere che per quanto io ne sappia non può darsi in nessun modo almeno ripeto finché non avrò 30 anni e allora sarò il primo io a non averne più voglia come mi sembra questa brama di vivere certi disichiti moralisti col moccio si compiacciano di chiamarla bassa specialmente dei poeti che sia in parte una caratteristica dei Karamazov questa brama di vivere è innegabile e nonostante tutto anche in te è senza dubbio radicata ma perché mai dovrebbe essere bassa forza centripeta se ne è ancora in quantità formidabile sul nostro pianeta agiosce mio la vita si fa desiderare e io vivo forse anche a dispetto della logica e appura che io non creda nell'ordine dell'universo ma troppo care mi sono le gemmette vischiose che sbocciano a primavera troppo caro l'azzurro del cielo troppo caro un qualche uomo che a volte non è vero non sai perché neppure io lo ami troppo caro un'impresa umana in cui forse già da un pezzo hai cessato di credere eppure una vecchia tradizione te la fa venerare col cuore ma ecco che ti han portato la zuppa mangia se vuoi mantenerti in forza è una zuppa eccellente qui la fanno benissimo io voglio partire per l'europa agli osce e di qui me ne vado capisco sai che vado in un cimitero e nient'altro ma troppo caro troppo caro me questo cimitero ecco tutto cari morti giacciono là e su loro ogni pietra parla di una vita trascorsa in tanto ardore di tanta appassionata fede nella propria opera nella propria varietà nella propria lotta e nella propria scienza che io non so fin d'ora cadrò a terra e mi metterò a baciare quelle pietre e a piangersi sopra nello stesso tempo in cui sarò persuaso con tutto l'essere che ormai da un pezzo tutto quello è un cimitero e nient'altro e non sarà per disperazione che piangerò ma semplicemente perché sarò felice delle lacrime che mi verranno sparse della mia stessa commozione mi inebrierò le vischiose gemmette primaverili l'azzurro del cielo ecco quel che amo io qui non si tratta di intelligenza di logica qui è con l'intimo dell'essere è con le viscere che si ama e sono le tue prime giovani forse che tu ami intendi qualcosa del mio guazzabuglio agli oscia o forse no si miseridere Ivan intendo benissimo Ivan con l'intimo e con le viscere si sente voglia ad amare mi hai detto tu magnificamente e io non so dirti quanto son felice che in te ci sia tanta voglia di vivere prolupe agli oscia io penso che per tutti il primo dovere al mondo sia di amare la vita amare la vita più che il senso di essa senza dubbio amarla anteriormente a ogni logica come dici tu e di necessità anteriormente a ogni logica già che solo a questo patto potrò afferrarne il senso ecco quello che da ragazzo mi par di intravedere la metà della tua opera Ivan è bella e fatta tu ami di vivere ora occorre che tu ti adopri intorno alla seconda metà e sarai salvo tu già mi vuoi salvare mentre io non sono neppure perduto forse ma in che consiste questa tua seconda metà in questo che bisogna risuscitare i tuoi morti i quali forse non sono mai neppure morti bene ora il te come sono felice che parliamo insieme Ivan vedo che tu ti trovi in uno stato come ispirazione sapessi quanto mi piacciono queste profession de foie da parte di novizi come te tu sei un uomo ben saldo Alexei è vero che vuoi uscire dal convento è vero il mio stare ci mi manda nel mondo ci rivedremo ancora dunque nel mondo ci incontreremo prima dei trent'anni quando io dalla coppa comincerò a staccarmi nostro padre ecco non vuol staccarsi dalla sua coppa fino ai settanta e medita addirittura fino agli ottanta ha detto lui stesso ed è in lui un pensiero ben serio per quanto sia un buffone se piantato sulla sua libidine nemmeno si trattasse di una roccia benché sai detto fra noi passati trent'anni su che cosa ti vuoi piantare se non su quello ma fino a settant'anni è una cosa ignobile è meglio fino ai trenta è possibile conservare è possibile conservare una sfumatura di nobiltà illudendo se stessi non hai veduto oggi Dimitri no non l'ho veduto ma ho veduto Smerdiakov e Aglioscia informò il fratello in breve abbondando in dettagli sul suo incontro con Smerdiakov Ivan d'improvviso si fece ad ascoltare con grande tensione e a chiedere perfino delucidazioni su questo e su quello mi ha raccomandato però di non far sapere a Dimitri che mi aveva detto qualche cosa sul suo conto soggiunse Aglioscia Ivan aveva agglottato il viso e rimaneva pensieroso è per Smerdiakov che ti sei imbronciato così domandò Aglioscia sì per lui che vada all'inferno avrei voluto per davvero vedere Dimitri ma ormai non è il caso controvoglia mormorò Ivan ma tu vuoi proprio partire così presto fratello sì e che sarà di Dimitri e del babbo come andrà a finire tra loro ansiosamente esclamò Aglioscia e dagli tu col tuo ritornello ma che ci posso fare io sono il guardiano forse di mio fratello Dimitri sì stiziosamente Ivan provò a tagliar corto ma d'improvviso ebbe un sorriso come d'amarezza così Caino rispose a Dio che gli chiedeva del fratello ucciso non è vero? probabilmente stai pensando così in questo momento ma porco diavolo non posso mica io restare qui a far davvero il guardiano a loro ho finito le mie faccende e me ne parto non penserai spero che io sia geloso di Dimitri e che in questi tre mesi abbia tentato di soffiargli la sua bella Caterina Ivanovna e diavolo io ho avuto le mie faccende le faccende sono finite e me ne parto mi sono finite ore poco tu stesso ne sei stato testimonio alludi a quel che è accaduto poc'anzi da Caterina Ivanovna sì da lei di colpo ho spezzato ogni vincolo e che dunque che ho a che fare io con Dimitri qui Dimitri non c'entra davvero io ho avuto le mie proprie faccende con Caterina Ivanovna e basta tu sei il primo a sapere invece che Dimitri si è comportato in modo come se fra me e lui ci fosse un complotto io mi sono guardato bene da chiedergli nulla è stato lui che solennemente me l'ha ceduta aggiungendoci tanto di benedizione è una storia insomma che ha qualche cosa di comico no l'ha ceno sapessi come mi sento leggero adesso me ne stavo qua solo solo a mangiare e ci credi che mi è venuto in animo d'ordinarlo champagne per festeggiare la prima ora mia di libertà fu mezz'anno quasi e tutto di un colpo di un colpo solo mi sono liberato e ancora ieri chi avrebbe mai supposto che pur di volerlo era una cosa che non costava nulla troncare tu parli del tuo amore Ivan se vuoi chiamarlo amore vada pura sì ma ero innamorato della signorina uscita appena di collegio mi sono tormentato per lei e lei mi ha tormentato la sua parte non mi muovevo lì d'intorno a lei ed improvviso tutto è svanito e in quei momenti ho parlato da ispirato ma appena fuori mi sono scoppiato in una grande risata mi puoi prestar fede questo è vero alla lettera anche adesso ne parli così allegramente notò gli oscia e gli guardavo il viso che veramente gli si era fatto allegro ma come potevo immaginarmi dunque che per lei non avesse ombra d'amore e tutto a un tratto è venuto a scoprirsi che non ne avevo avuto punto eppure quanto mi piaceva quanto mi piaceva perfino poco fa mentre le recitavo il mio sermone e sai anche adesso mi piace tremendamente ma intanto com'è stato facile separarsi da lei tu pensi che io stia facendo il fanfarone no forse semplicemente non era proprio amore piccolo agli oscia si mise a ridere Ivan non risicarti a ragionare d'amore è così sconveniente per te allora la in casa sua hai avuto una di quelle splendide scappate e io mi sono scordato di darti un bacio in premio ma come mi ha tormentato mi pareva di stare a una tortura lo sapeva lei che io le volevo bene voleva bene a me e non a Dimitri alleggermente incalzava Ivan Dimitri non le serviva che per torturarsi tutto quello che io le ho detto poco fa è pura verità ma la questione è che le occorrevano forse 15 anni o anche 20 perché si renda conto che a Dimitri non gli vuole alcun bene e che vuole bene soltanto a me che si accanisce a tormentare proprio così e chissà magari che non se ne renda conto mai nonostante la lezione di oggi meglio dunque come ho fatto mi sono alzato e addio in eterno a proposito come sta ora che è successo quando sono venuto via Agiosha gli riferì la crisi isterica e come ora a quanto aveva saputo fosse rimasta fuori di sé e in delirio non mentirà la cioclacova credo di no bisognerebbe sincerarsene le crisi isteriche del resto non ha mai fatto morire nessuno si sfoghi pure così e Dio ha concesso alle donne con queste crisi per il bene loro io la non ci vado davvero e a che scopo ronzarci un'altra volta tu però poc'anzi le hai detto che lei non t'ha mai voluto bene questo l'ho detto apposta ma via Agiosha è mia voglio ordinarlo champagne berremo alla mia libertà se tu sapessi come sono felice no fratello è meglio che non beviamo disse bruscamente Agiosha e poi io addosso anche un po' di tristezza già da un pezzo sei triste da un pezzo ti vedo così dunque irrevocabilmente domani mattina tu parti domani mattina io non ho detto proprio domani mattina ma del resto chissà può darsi anche domani mattina che vuoi lo vedi da te io ho pranzato qui oggi unicamente per non pranzare insieme col vecchio a tal segno mi è divenuto ributtante se non fosse stato che per lui da un pezzo sarei già partito ma tu che hai da agitarti così perché io parto io e te abbiamo ancora Dio sa quanto tempo fino a questa partenza un'eternità intera l'immortalità se tu domani te ne vai che eternità può esserci ma forse a noi due sono cose queste che ci riguardano si miseridereva di quelle che preme a noi faremo in tempo pur sempre a discorrere di quello che preme a noi e che ci ha fatto venire qui tu mi guardi meravigliato rispondi perché ci troviamo qui insieme forse per parlare dell'amore per Caterina Ivanovna del vecchio o di Dimitri oppure dell'estero o della inquietante situazione della Russia o dell'imperatore Napoleone rispondi e per questo? no non per questo capisci anche tu allora per che cosa? a ciascuno la sua preoccupazione a noi altri teneri di becco interessa prima di ogni altra cosa risolvere i problemi eterni ecco la preoccupazione nostra tutta la giovane Russia non fa altro al giorno d'oggi che di scettare dei problemi sempre eterni oggi più che mai già che gli anziani sono corsi tutti di improvviso a occuparsi dei problemi pratici qual è la ragione per cui per tre mesi di fila tu mi hai tenuto rivolto uno sguardo d'attesa ma appunto per chiedermi in che credi o forse non credi in nulla ecco dove miravano i vostri sguardi di tre mesi signor Alexei Fiodolovic non è vero? ammetto che sia così sorrisse a Lioscia ora tu non stai mica ridendoti di me fratello io ridermi di te non voglio davvero offendere il mio fratellino che per tre mesi mi ha tenuto rivolto a uno sguardo così pieno d'attesa a Lioscia guardami in faccia sono anch'io sai un piccolo ragazzo né più né meno che te seppure non sono ecco un novizio lo sai i ragazzi nostri come si comportano finora alcuni che so io voglio dire ecco qua per esempio questa puzzolata volente trattoria loro si trovano insieme e si mettono a sedere in un cantuccio da che stavano al mondo fino a questo giorno non avevano saputo nulla l'uno dell'altro e quando saranno riusciti dalla trattoria per quarant'anni non sapranno più nulla l'uno dell'altro orbene ma di quale argomento ragioneranno quel minuto che avranno acciuffato in questa trattoria sui massimi problemi non va dubbio esiste Dio c'è l'immortalità e quelli poi che in Dio non ci credono quelli parleranno di socialismo e di anarchismo del modo di riformare l'umanità intera secondo un nuovo ordinamento e non se ne scaperà fuori nulla di più concreto sempre gli stessi problemi affrontati però dall'altro capo e chissà quanti chissà quanti dei più originali ragazzi russi non fanno altro che parlare dei problemi supremi oggi da noi non è forse così sì per i veri russi problemi come quelli se ci sia Dio se ci sia l'immortalità o come dici tu questi stessi problemi dal capo opposto sono indubbiamente i principali i più urgenti problemi ed è bene che sia così disse Agliosha che continuava a guardare il fratello con quel suo sorriso pacato e scrutatore sai che ti dico Agliosha essere russo è a volte una cosa tutt'altro che intelligente ma credi pure che una cosa più stupida di quella che attualmente costituisce l'occupazione dei ragazzi russi non si può neppure immaginare però c'è uno di questi ragazzi russi un certo Agliosha che mi piace straordinariamente oh come l'hai condotta bene scoppiò a ridere Agliosha su via dimmi dunque da che incominciamo stabiliscelo tu da Dio se esiste Dio eh cominciò da quello che vuoi fosse pure dall'altro capo mi pare che ieri dal babo tu hai proclamato che Dio non esiste e Agliosha puntò sul fratello uno sguardo penetrante ieri a pranzo lì dal vecchio ho detto apposta così per stuzzicarti e ho visto gli occhietti come ti si erano accesi ma adesso non sono affatto alieno da ragionare con te e te lo dico molto seriamente io desidero di affiatarmi con te Agliosha da che amici non ne ho e voglio provarmici figurati un po' che forse forse accetto anch'io l'esistenza di Dio risa Ivan è una cosa che ti resta nuova no? sì non lo nego o almeno che anche in questo momento tu non stia scherzando sto scherzando vedi lo han detto ieri là dallo Starec che io facevo tutto per scherzo vedi cuore mio c'è stato un vecchio peccatore del diciottesimo secolo il quale sentenziò che se Dio non ci fosse bisognerebbe inventarlo sì il ne esiste pa Dio il foco ad inventer effettivamente l'uomo ha inventato Dio è lo strano lo stupefacente non sarebbe tanto che Dio realmente esistesse lo stupefacente è che un pensiero simile il pensiero della necessità di Dio sia potuto germogliare nella testa di un selvaggio perfido animale come l'uomo a tal segno è toccante a tal segno è carico di saggezza e a tal segno fa onore all'uomo per quanto mi riguarda è un pezzo ormai che ho stabilito di non pensare affatto alla questione se l'uomo abbia creato Dio e Dio l'uomo e mi guarderò bene si intende per prendere in esame su questo argomento tutti i moderni assiomi dei ragazzi russi tutti senza sensazione ricavati dalle ipotesi europee già che quel che là è ipotesi nel ragazzo russo diviene subito assioma e non nel ragazzo soltanto e magari anche nel suo professore già che ora i professori russi molto sovente sono anche loro né più né meno che ragazzi russi quindi salterò a piepari tutte le ipotesi che cos'è in fondo che ora preme a noi due quel che ci preme è che io possa al più presto dichiararti il mio vero essere cioè che uomo sono io in che cosa credo e in che cosa spero o non è così quel che ci preme è che io possa al più presto dichiararti il mio vero essere cioè che uomo sono io in che cosa credo e in che cosa spero è o non è così perciò ti dichiaro senz'altro che accetto in tutte lettere l'esistenza di Dio ma ecco vedi che cosa occorre rilevare questo che Dio esiste e che abbia realmente creato la terra questa come tutti sappiamo è stata creata secondo la geometria euclidea e l'intelletto umano è stato creato idoneo a concepire soltanto uno spazio a tre dimensioni vi sono stati invece e vi sono anche ora geometri e filosofi e anzi fra i più grandi i quali dubitano che tutta la natura o più ampiamente tutto l'universo sia stato creato secondo la geometria euclidea e si avventurano perfino a supporre che due linee parallele che secondo euclide non possono a nessun patto incontrarsi sulla terra potrebbero anche incontrarsi prima o dopo nell'infinito e così cuore mio io ho tratto alla conclusione che se nemmeno questo mi riesce intellegibile come potrei mai innalzarmi al concetto di dio umilmente riconosco che in me non c'è nessuna capacità di risolvere problemi simili in me c'è una mente euclidea terrestre e come potrei pretendere di ragionare su ciò che non è di questo mondo e anche a te agli oscia consiglio che a queste cose ti astenga sempre dal pensare e soprattutto per quanto tocca il dio se esista o non esista queste sono tutte questioni assolutamente inadatte a un'intelligenza creata col concetto di uno spazio unicamente tridimensionale cosicché ammetto volentieri il dio non solo ma ammetto ben più anche la sapienza sua e i suoi fini sebbene a noi interamente sconosciuti credo nell'ordine nel senso della vita credo nell'eterna armonia in cui tutti dovremmo quasi fonderci insieme credo nel verbo a cui tutta la creazione aspira e che è a sua volta apud deum ed è esso stesso dio e così via così via all'infinito di parole su questo argomento ne sono state coniate tante mi sembra così da essere già sulla buona strada che ne dici ebbene immagina ora che questo mondo creato da dio nel suo risultato finale io non lo accetti e benché sappia che egli esiste non possa in alcun modo approvarlo non è che non accetti dio intendi bene questo punto è il mondo da lui creato questo mondo di dio che io non accetto e non posso piegarmi ad mi spiego meglio io sono convinto come un bambino che i dolori si rimargereranno e si dilegueranno che tutta l'avvilente commedia delle contraddizioni umane svanirà come un pietoso miraggio come il detestabile prodotto ad un pensiero impotente e piccino come un atomo dell'umana mentalità euclidea che da ultimo nel finale universale nel momento dell'eterna armonia avverrà e si svelerà qualcosa di tanto prezioso che sarà sufficiente a bilanciare tutti i corrucci a placare tutti gli sdegni a riscattare tutti i delitti degli uomini tutto il sangue sparso da loro e sarà sufficiente non solo perdonare ma perfino a giustificare tutto ciò che è accaduto nella storia degli uomini sì sì tutto questo avvenga pure e si sveli ma io non lo accetto e non voglio accettarlo sia pure che le linee parallele si incontrino e che io lo veda coi miei propri occhi lo vedrò dirò che si sono incontrate ma tuttavia mi rifiuterò di accettarlo ecco in che consiste l'essere mio più profondo agli oscia ecco la mia tesi ho cominciato apposta la nostra conversazione nel più stupido dei modi possibile ma poi sono venuto alla mia confessione già che questo e non altro era ciò che ti bisognava non di dio ti occorreva sapere ma ti occorreva sapere soltanto di che vive il fratello che tu ami e io te l'ho detto Ivan concluse la sua lunga tirata con un subitaneo inatteso accento di emozione e perché hai cominciato così nel più stupido dei modi possibile domandò agli oscia guardandolo pensosamente già anzitutto se non altro per russismo tra i russi su questi temi i discorsi vengono sempre condotti nel più stupido dei modi possibile secondariamente poi più stupido è il modo più vicini si va alla meta lo stupido va ad un passo col chiaro la stupidità è sbrigativa e poco scaltra mentre l'intelligenza tergiversa è sappiatta l'intelligenza è birbante ma la stupidità è aperta e onesta io ho condotto il discorso fino al punto della mia disperazione e quanto più stupidamente sono venuto a sboccarvi tanto più ci ho guadagnato in efficacia tu mi spiegherai perché non accetti il mondo esclamò agli oscia ma certamente te lo spiegherò non è mica un segreto appunto a questo ti ho condotto fratellino mio caro non è già che io ti voglio corrompere e rovesciare dal tuo piedistallo me stesso forse vorrei risanare per mezzo tuo sorrisi a un tratto Ivan proprio al modo di un piccolo mite ragazzo non mai prima d'oggi agli oscia gli aveva veduto un sorriso come questo ribellione devo farti una confessione cominciò Ivan io non ho mai potuto capire come sia possibile amare il prossimo appunto il prossimo a parer mio è impossibile amarlo a differenza forse di chi ci sta lontano ho letto per esempio non ricordo dove di un certo Giovanni il caritatevole un santo che essendo arrivato alla sua capanna un viandante affamato e interizzito e pregandolo di farlo scaldare lui ci si colicò insieme nel letto lo abbracciò e cominciò a soffiargli il fiato nella bocca che aveva piena di marcia e di fetore per non so quale orrenda malattia io sono convinto che una cosa simile costui la facesse in un gusto d'autotortura una autotortura piena di menzogna per un amore imposto gli dal dovere con lo scopo di infliggere a se stesso una memorabile penitenza perché l'uomo si faccia amare bisogna che rimanga nascosto non appena ti mostra il viso l'amore è bello è finito è una cosa di cui più volte ha parlato lo stare zezosima commentò agli oscia anche lui diceva che il viso dell'uomo per molti che sono ancora inesperti dell'amore e del prossimo riesce spesso d'impedimento all'amore ma c'è pure molto amore fra gli uomini e ce n'è quasi di simile nell'amore di Cristo l'ho conosciuto io stesso Ivan ma io per conto mio non l'ho ancora mai conosciuto ne posso comprenderlo è con me una quantità stragrande di persone la questione vedi è tutta qui se questo deriva da cattiva disposizione degli uomini o piuttosto dal fatto che tale è la loro natura a parer mio l'amore di Cristo per gli uomini è una specie di miracolo impossibile sulla terra certo egli era un dio ma noi altri non siamo i di un esempio io posso soffrire profondamente ma un altro non potrà mai rendersi conto del grado di profondità raggiunta dalla mia sofferenza perché appunto egli è un altro e non me a parte poi che difficilmente l'uomo si riduce a riconoscere in un altro un sofferente come se si trattasse di una categoria stabilita per qual ragione non vi si riduce secondo te ma perché poniamo io mando un cattivo odore oppure perché ho un viso stupido o perché una volta chissà quando gli ho pestato un piede oltre che se sofferenza e sofferenza una sofferenza degradante che mi avvilisca per esempio la fame mi sarà ancora ancora menata per buona dal mio benefattore ma una sofferenza appena un po' elevata poniamo per un'idea no signore sarà ben difficile che egli me la meni per buona già che per esempio dandomi una squadrata si accorgerà che io non ho affatto un viso come quello che secondo la sua fantasia dovrebbe avere un uomo che soffre per quella certa idea cosicché mi preverà immediatamente della sua assistenza e magari per tutt'altro che per durezza di cuore i poveri e soprattutto i poveri d'animo nobile dovrebbero stare attenti a non farsi mai vedere in faccia e chiedere la carità di sui giornali astrettamente è ancora possibile amare il prossimo e qualche volta anche da lontano ma da vicino direi che non è mai possibile se le cose si svolgessero come a teatro nei balletti dove i poveri quando vengono in scena si presentano in cenci di seta e in merletti stracciati e chiedono l'elemosina graziosamente danzando allora sì che si potrebbe ancora ancora dilettarsi di loro dilettarsene ma non amarli ma di questo basti avevo bisogno soltanto di condurti al mio punto di vista volevo ora venire a parlare delle sofferenze umane in generale ma sarà meglio che ci limitiamo alle sofferenze dei bambini tanto di perduto a favore della mia tesi si intende ma prima di tutto i bambini si possono amare anche da vicino anche quelli sudici anche quelli brutti di viso a me sembra però che i bambini non siano mai brutti di viso secondariamente se dei grandi non dirò nulla c'è anche un'altra ragione oltre che sono repellenti e che non sanno guadagnarsi l'amore con loro entra in gioco anche la retribuzione loro hanno mangiato il pomo hanno conosciuto il bene e il male e sono diventati sicut dei e continuano ancora a mangiarlo ma i piccoli bambini non hanno mangiato nulla e ancora non hanno nessuna colpa tu vuoi bene i bambini agli oscia lo so che li vuoi bene e a te riuscirà chiaro perché di loro soli voglio parlare ora se anche loro su questa terra sono soggetti a sofferenze tremende deve essere necessariamente a causa dei padri loro vengono puniti per i padri loro che mangiarono il pomo ma vedi questo è un ragionamento che non è di questo mondo al cuore dell'uomo qui sulla terra riesce incomprensibile non è possibile che un innocente debba soffrire per colpe di un altro e di quali innocenti si tratta forse tu rimarrai sorpreso agli oscia ma anch'io voglio un gran bene ai bambinetti e nota bene i feroci i passionali i lussuriosi gli uomini tipo Karamazov non di rado amano teneramente i bambini nei bambini finché sono bambini fino ai sette anni che enorme differenza dagli uomini è proprio come se si trattasse d'un tutt'altro essere dotato ad un'altra natura io ho conosciuto un brigante in carcere gli era avvenuto nella sua carriera di far strage di intere famiglie per le case dove di notte si introduceva a far bottino e aveva trucidato fra gli altri anche qualche bambino ma stando in carcere aveva per questi un amore incredibile dalla finestra della cella non faceva altro che guardare i bambini che giocavano nel cortile del carcere sarà un maschettino che aveva abituato a venirgli sotto la finestra e quello gli sarà fatto grande amico tu non sai perché ti dico tutto questo agli oscia chissà ho la testa che mi duole mi sento triste tu mentre parli hai un aspetto strano agitato notò gli oscia sembri quasi fuori di te a proposito mi parlava di recente un bulgaro a Mosca continuò Ivan Fiodorovic come se non udisse neppure il fratello di tutti i misfatti che turchi e circassi compiono comunemente là da loro in Bulgaria per timore di un'insurrezione in massa degli ortodossi incendiano sgozzano violentano donne e bambini inchiodono agli arrestati le orecchie contro lo steccato e così li lasciano fino al mattino e poi al mattino li impiccano e via di questo passo che a certe cose non ci si può nemmeno pensare in realtà si qualifica spesso come efferata la crudeltà degli uomini ma è una cosa straordinariamente ingiusta e offensiva per le fiere la fiera non può mai essere crudele con l'uomo così raffinatamente così artisticamente crudele la tigra zanna sbrana e più di questo non sa fare non le passerebbe neanche per la testa di tenere degli uomini tutta una nottata inchiodati per le orecchie a uno steccato eppure avesse la possibilità di agire così questi turchi oltre quel che t'ho detto tormentano con gran volutà anche i bambini cominciano dall'estirparli col pugnale fuor dall'utero materno e terminando col gettare in aria i lattanti e infilzarli alle baionette sotto gli occhi delle madri appunto sotto gli occhi delle madri qui sta il meglio della volutà ma eccoti una scenetta che mi ha destato un interesse particolare immagina un bambinello da latte fra le braccia della madre trepidante e intorno i turchi che le sono entrate in casa costoro ne hanno pensata una fine fanno vezze al bambinello gli ridono perché stia allegro e ci riescono il bambino comincia a ridere in quell'istante un turco gli punta la pistola a un palmo di distanza dal viso il bambino tutto giulivo scoppia nelle sue risatelle tende i bracini per acchiappare la pistola e a bruciapelo l'artista gli fa scattare il colpo dritto nel viso e gli sfracella la testolina arte vera e propria non è vero a proposito si dice che ai turchi piacciono assai i dolciumi fratello mio a chi miri con tutto questo domanda gli oscia io credo che se il diavolo non esiste e quindi è stato creato dall'uomo questi lo ha creato a sua immagine e somiglianza né più né meno allora che dio ma sai che hai un modo meraviglioso di rigettare le parolette come dice Polonio nell'ambleto scoppiò a ridere Ivan hai colto al balzo la mia parola benissimo ne sono contento buono davvero il tuo dio si è creato l'uomo a sua immagine e somiglianza tu mi domandavi poco fa a che cosa io mirassi io vedi sono un appassionato e un collezionista di certi fatterelli e me li appunto e ne faccio raccolta di sui giornali e dalla voce viva comunque me ne vengo il destro già che di un certo genere di piccoli aneddoti posseggo ormai una buona collezione i turchi si intende sono entrati a far parte della collezione ma si tratta pur sempre di stranieri vanto anche dei pezzi nazionali e perfino superiori a quelli turcheschi sai il nostro forte sono le percosse sono le verghe la frusta e questo è tutto nazionale da noi le orecchie inchiodate a parete sono inconcepibili noi siamo pur sempre europei ma le verghe ma la frusta questo è proprio qualcosa di nostro e nulla ce lo può strappare all'estero adesso sempre che le percosse siano del tutto cadute in disuso sia che i costumi si siano ingentiliti o piuttosto siano state fatte delle leggi per cui l'uomo non ardisce più battere un altro uomo in compenso però se ne sono rifatti sotto altra forza ma con qualche cosa d'altrettanto nazionale che da noi è così strettamente nazionale che da noi non si direbbe neppure sebbene anche da noi cominci a quanto pare ad attecchire specie dopo il movimento religioso che si è determinato nella nostra società più elevata io posseggo una grandissima brochure tradotta dal francese sull'esecuzione capitale che a Ginevra assai recentemente sono in tutto 50 anni fu fatta di un delinquente omicida certo Rischar un giovane se ben ricordo di 23 anni pentitosi e convertitosi alla fede cristiana proprio all'ombra del patibolo Codesto Rischar era un figlio illegittimo che ancora bambino di 6 anni i genitori avevano regalato a certi pastori della montagna svizzera e questi lo avevano allevato per farlo poi lavorare era cresciuto presso di loro come una bestiola selvaggia non gli avevano insegnato nulla e a 7 anni lo mandavano già a pasturare il bestiame alla pioggia al freddo quasi nudo e quasi senza mangiare né ben si intende agendo a questo modo quei pastori provavano il minimo dubbio o pentimento anzi si ritenevano nel loro pieno diritto c'è che Rischar era stato regalato loro come una cosa ed essi non si sentivano obbligati neppure a dargli da mangiare lo stesso Rischar testimonia che in quegli anni la somiglianza del prodigo del Vangelo aveva una terribile voglia di trangugiare magari quel pastone che davano ai porci da ingrassare per la fiera ma a lui non davano neanche di quella roba e lo picchiavano quando ne toglieva ai porci e così aveva passato l'infanzia e l'adolescenza finché sarà fatto adulto e divenuto forte abbastanza se n'era andato via di là a pigliare da sé quel che gli occorreva questo selvaggio si era messo a guadagnarsi la vita lavorando a giornata in Ginevra il guadagno gli andava tutto in bere viveva come un mostro e aveva finito con l'ammazzare un vecchio e depredarlo lo avevano catturato processato e condannato a morte lo sai non ci sono mica tanti sentimentalismi ed ecco che in prigione senza perder tempo gli si accalcono intorno pastori protestanti e membri delle varie fratellanze cristiane dame di beneficenza e via discorrendo insegnarono lì in prigione a leggere e a scrivere si adoperarono a spiegargli il Vangelo e dagli a fare prediche a persuaderlo a pressarlo a cincischiarlo a togliergli il fiato fin tanto che lui stesso solennemente si riconobbe colpevole del suo delitto si convertì scrisse al giudice di sua mano che era un mostro ma che finalmente nonostante tutto aveva meritato d'essere illuminato da Dio ed essere toccato dalla sua grazia tutta Ginevra fu sotto sopra tutta la Ginevra benefica e pia il fiorfiore della società si precipitò da lui in prigione Richard fu baciato abbracciato tu sei un nostro fratello su di te è discesa la grazia e Richard dal canto suo giù a piangere di commozione si la grazia è scesa su me prima e per tutta l'infanzia e la giovinezza ero contento del cibo dei porci ma ora anche su di me è scesa la grazia e muoio nel Signore si si Richard mori nel Signore tu hai sparso del sangue e devi morire nel Signore ammettiamo che tu non abbia colpa se non conoscevi affatto il Signore quando invidiavi il cibo dei porci e ti picchiavano perché rubavi loro il cibo cosa malissimo fatta perché rubare è proibito ma tu hai versato del sangue e devi morire ed ecco che arriva l'ultimo giorno accasciato Richard piange e non fa che ripetere ogni momento questo è il più bello dei miei giorni io vado dal Signore si strillano in coro i pastori giudici ed ame di beneficenza questo è il più felice dei tuoi giorni già che tu vai dal Signore e tutto il branco si avvia verso il patibolo a seguito dell'infame carretta che porta Richard chi in carrozza chi a piedi ecco che raggiungono il palco muori fratello nostro strillano a Richard muori nel Signore già che anche su di te è scesa la grazia e così coperto dai baci dei fratelli il fratello Richard fu trascinato sul palco accomodato sotto la chigliottina e troncato fraternamente del capo in cambio della grazia che era scesa anche in lui no è proprio un caso caratteristico questa brochure è stata tradotta in russo e da certi luteraneggianti filantropi russi della migliore società diffusa per l'elevazione del popolo russo presso giornali e case editrici gratuitamente giochetto tirato a Richard ha di buono che è nazionale da noi benché sarebbe stravagante tagliare la testa a un fratello per la semplice ragione che è diventato fratello nostro e che su lui è scesa la grazia da noi però non manca ripeto quel che ci appartiene improprio e direi che non è niente da meno noi abbiamo senza tante complicazioni e sempre a portata di mano lo storico piacere di torturare a forza di percosse in Necrasov ci sono quei versi sul Mugic che scudisce il cavallo con lo knut sugli occhi sui miti occhi e chi non ha visto di queste cose è russissimo questo Necrasov descrive come la debole cavallina a cui è stato imposto un carico eccessivo si è incagliata col suo traino e non riesce più a spostarlo il Mugic la percuote la percuote con accanimento la percuote senza saper neppure perché fa così nell'ebbrezza del suo percuotere sferza giù a far male a non finirla più seppure non ce la fai tira lo stesso crepa ma tira la povera Rozza s'abbatte inutilmente ed ecco che l'uomo comincia a scudiciarla in difesa com'è sui lacrimosi suoi miti occhi fuori di sé e se da un'ultima stratta e trascina via il carico e se ne va là tutta tremante senza rifiatare mezzo sgimbescio con una sorta di passetto saltellante con un'aria innaturale piena d'onta tutte cose che hanno in Eglasov un rilievo tremendo ma qui si tratta pur sempre di un cavallo e i cavalli Dio stesso li ha dati all'uomo perché li sferzi così i tartari ci hanno insegnato e ci hanno regalato lo Knut per buona memoria ma è possibile non è vero prendere a sferzate anche gli uomini ed ecco che un evoluto e distinto signore e la dama sua consorte battono con le verghe la propria figlioletta una piccina di sette anni posseggo in proposito una relazione circostanziata il papà è tutto contento che le verghette siano nodose scotteranno di più dice ed ecco che si accinge a piazzare la sua figliuola posso dire con sicurezza che ci sono certuni che quando picchiano si infocano di colpo in colpo fino alla vulta carnale letteralmente fino alla vulta carnale e ad ogni colpo che aggiungono via via di più in un progresso sempre crescente picchiano per lo spazio di un minuto seguitano a picchiare per cinque minuti per dieci più innanzi vanno più pestano forte più fitto più crudelmente la bambina da principio grida poi la bambina non può più gridare resta soffocata papà papà papino mio papino la faccenda per non so quale maledetto incidente perviene all'autorità giudiziaria si ricorre a un avvocato il popolo russo ha bollato ormai l'avvocato avvocato coscienza anolo l'avvocato strepita in difesa del suo cliente la cosa come a dire è tanto semplice familiare e comune un padre che ha battuto la sua figliuola ed ecco che una cosa simile la vergogna dei nostri tempi si porta dinnanzi ai giudici persuasi i giurati si ritirano e pronunciano sentenza d'assoluzione il pubblico ulula felice che abbiano assolto il torturatore io non c'ero là altrimenti avrei gridato la proposta di fondare una borsa di studio per onorare il nome di quel carnefice quadretti veramente attraenti ma a proposito di bambini io sono in possesso di roba anche migliore ho una vasta vastissima raccolta a proposito dei bambini russi una bambinetta di cinque anni in tutto era venuta in odio al padre e alla madre rispettabilissime persone del ceto burocratico colte e ben educate vedi io torno a insistere sulla scorta dei fatti che c'è in molti uomini una facoltà tutta speciale voglio dire una passione per torturare i bambini ma i bambini soltanto con tutti gli altri rappresentanti dell'uman genere questi stessi aguzzini si comportano addirittura in modo benevolo e dolce come civili e umani europei ma hanno una gran passione per tormentare i bambini e hanno perfino passione per i bambini stessi in questo senso deve essere appunto l'incapacità di difendersi di queste creature che seduce i tormentatori e l'angelica fiduciosità del bambinetto che non sa dove ricorrere e da chi andare è appunto essa che attizza l'abominevole sangue dell'aguzzino in ogni modo non c'è dubbio si cela una fiera la fiera dell'irascibilità la fiera dell'infocamento carnale ai gridi della vittima torturata la fiera dell'incontinenza senza freni la fiera dei morbi contratti nella dissolutezza podagra mal di fegato e via dicendo quella povera bambina di cinque anni veniva sottoposta dai suoi distinti genitori a tutte le torture pure immaginabili la picchiavano la frustavano la prendevano a calci senza sapere neanche loro perché fino a ridurle tutto il corpo un livido solo poi si spinsero a un grado d'ancor maggiore raffinatezza in tempi di freddi di geli la rinchiudevano per tutta la nottata nel cesso e per punirla che di notte non avvisava dei suoi bisogni come se un piccino di cinque anni dormendo nel suo profondo sonno d'angelo potesse già a quell'età avezzarsi ad avvisare in tempo per punirla le impiastricciavano tutto il viso coi suoi stessi escrementi e la costringevano a mangiare quegli escrementi era la madre era la madre che ce la costringeva e questa madre non poteva dormire mentre tutta la notte risonavano i lamenti della povera piccina rinchiusa in quell'arcio stambugio mi sai spiegare tu di fronte a questa creaturina che è ancora incapace perfino di rendersi conto di ciò che le accade si batte in quell'arcio stambugio al buio al freddo col suo minuscolo pugno col piccolo petto straziato e invoca con le sue lacrime senza rancore mansuete il buon Gesù che le venga in aiuto mi sai spiegare tu questa razza di controsenso amico mio e fratello mio caro il mio servo di Dio umilissimo mi sai spiegare tu perché mai un controsenso simile sia necessario e sia stato creato senza questo dicono non sarebbe neppure stata possibile la sopravvivenza dell'uomo sulla terra da che non avrebbe avuto la nozione del bene e del male o perché avere questa diabolica nozione del bene e del male se deve essere a un prezzo tanto alto ma se poi tutto il mondo della conoscenza non vale le piccole lacrime di quella creaturina al buon Gesù io non parlo delle sofferenze dei grandi quelli hanno mangiato il pomo e se ne vanno al diavolo e che il diavolo si riprenda tutti quanti ma questi altri questi altri io ti faccio soffrire agli oscia mi sembri con me stravolto posso smettere se vuoi non è niente anzi io voglio soffrire mormorò agli oscia un'altra solo un'altra scenetta sai per semplice curiosità c'è che è proprio piena di carattere e poi soprattutto l'ho letta fresca fresca in una di queste raccolte delle nostre antichità nell'archivio o nel passato non so bene bisognerà accertarsene e sono scordato perfino dove l'ho letta è una cosa accaduta ai tempi più oscuri della servitù della gleba appena agli inizi del secolo e qui un evviva liberatore del popolo c'era allora agli inizi dell'ottocento un generale un generale di vaste aderenze ricchissimo latifondista ma sai di quelli come anche allora è vero sembra non ce ne fossero molti che ritirandosi dal servizio a riposo avevano quasi quasi la convinzione di essersi guadagnati diritto di vita e di morte sui loro sudditi tipi così allora ce n'era or bene se ne stava questo generale nel suo possedimento di duemila anime e faceva il padre eterno trattando i modesti vicini come suoi parassiti e buffoni ai canili centinaia di bestie un centinaio di canettieri tutti in divisa tutti a cavallo quando ecco che un ragazzo della servitù un ragazzetto di otto anni al massimo tira così giocando un sasso e rovina la zampa all'evriero preferito dal generale come mai il cane mio preferito si è azzoppato gli vanno a riportare ed ecco proprio quel ragazzo là gli ha tirato un sasso e gli ha rovinato la zampa ah sei stato tu lo squadrò il generale pigliatelo lo pigliarono lo pigliarono d'imbraccio alla madre e tutta la notte lo lasciarono chiuso in catorbia al mattino appena giorno esce fuori il generale parato di lutto punto per la caccia e monta a cavallo circondato dai parassiti dai cani dai canettieri dai cacciatori tutti a cavallo intorno c'era stata radunata per assistere all'esempio da servitù e innanzi a tutti la madre del ragazzo colpevole portano fuori i dicatorbi al ragazzo era una fosca fredda nebbiosa giornata d'autunno di quelle famose per la caccia il generale ordina che il ragazzo sia spogliato e il bambino viene spogliato nudo trema tutto e fuori di sé dal terrore non osa mandare un lamento cacciatelo innanzi comanda il generale corri corri gli gridano i canettieri e il ragazzo si mette a correre a tu acchiappalo grida il generale e gli lancia dietro tutto lo squadrone dei cani da presa lo fece raggiungere sotto gli occhi della madre e i cani sbranarono il bambino a pezzi pare che il generale fosse interdetto ebbene che si sarebbe dovuto fare fucilarlo per soddisfare il senso morale si sarebbe dovuto fucilarlo parla piccolo agli oscia fucilarlo a mezzo voce disse agli oscia e con un pallido convulso sorriso aveva alzato lo sguardo al fratello bravo stridete Ivan in una specie di esultanza se hai detto così significa ma bene il mio asceta dunque guarda un po' che diavoletto ti sannida in cuore agli oscia Karamazov ho detto una balordaggine ma e questo è importante che c'è un ma gridò Ivan sappi novizio mio che le balordaggini sono più che necessarie su questa terra sulle balordaggini poggia il mondo e senza di esse probabilmente non potrebbe più darvi si avvenimento di sorta noi sappiamo quel che sappiamo e cosa sai tu io non comprendo nulla continuò Ivan come se delirasse e non voglio ora comprendere nulla voglio attenermi al dato di fatto è gran tempo che ho deciso di non comprendere se mi prendesse voglia di comprendere qualche cosa immediatamente sviserei i fatti e invece io ho deciso di attenermi al dato di fatto a che scopo tu mi stai tentando lancinato dal dolore esclamò agli osce me lo dirai una buona volta certo che te lo dirò apposta t'ho condotto a questo punto per dirtelo tu mi sei caro non voglio lasciarmi ti sfuggire e non ti abbandonerò al tuo zosima Ivan stò in silenzio un momento e il viso bruscamente gli si fece pieno di tristezza stammi a sentire ho preso i bambini soli perché la cosa riuscisse più evidente dell'altre lacrime umane di cui è imbevuta la terra intera dalla scorza fino al centro ormai non dirò nulla ho volontariamente ristretto il mio tema io sono una cimice e riconosco con la massima umiltà che non posso intendere un ette delle ragioni per cui il mondo è composto così si vede che gli uomini stessi ne avranno colpa gli era stato dato il paradiso loro hanno voluto la libertà e hanno rapito il fuoco al cielo pur sapendo che sarebbero stati infelici non è dunque il caso di averne pietà oh io con la mia miserabile terrestre intelligenza euclidea io so unicamente che la sofferenza c'è che colpevoli non esistono che da una cosa deriva a un'altra in linea retta che tutto scorre via e viene a controbilanciarsi ma questo certamente non è che vaneggiamento euclideo e so io stesso che è così e vivere secondo esso è una cosa a cui non posso io a consentire mi importa tanto che i colpevoli non esistano e che sempre in linea retta cosa derivi da cosa e che tutto questo io lo sappia quel che occorre è una sanzione suprema altrimenti sarò costretto ad annichilarmi e che sia una sanzione non già nell'infinito indeterminata nel luogo e nel tempo ma proprio qui su questa terra e che la veda io coi miei occhi io ho avuto fede e io voglio vedere con gli occhi miei cosicché se a quel tempo sarà morto è bene che mi si faccia risuscitare e se infatti tutto si svolgesse senza che io fossi presente sarebbe un'offesa troppo grossa per ben altro ho sofferto io che per servir di stabbio con la mia persona con le mie malefatte e le mie sofferenze a non so quale armonia futura io voglio vedere con gli occhi miei il cerbiatto giacere a fianco del leone e il trucidato alzarsi e abbracciare colui che lo ha ucciso io voglio trovarmi lì quando tutti d'improvviso verranno a capire perché il mondo sia stato tale qual è e questo è il desiderio su cui si fondano tutte le religioni della terra e io dal canto mio ho fede ma ecco da quest'altra parte i piccoli bambini che cosa farò di costoro allora questo è un problema che io non riesco a risolvere per la centesima volta torno a ripetere di questioni se ne è un'infinità ma io ho preso in considerazione i bambini soli perché qui spicca con palmare chiarezza ciò che volevo dire ascolta posto che tutti si debba morire per comprare a prezzo di sofferenza la futura armonia che c'entrano però i bambini me lo dici tu per favore è assolutamente incomprensibile perché debbano soffrire anche essi e perché essi debbano comperare quell'armonia con le sofferenze la solidarietà nel peccato fra gli uomini io la comprendo e comprendo quindi la solidarietà anche nelle sanzioni ma non già la solidarietà nel peccato coi bambini e se effettivamente la verità è che essi sono solidali coi padri in tutti i peccati di questi ultimi allora devo rispondere che una verità come questa non è di questo mondo e io non la posso comprendere un burlone potrebbe dire che già prima o poi il bambino si farà grande e avrà campo di peccare ma qui abbiamo innanzi il caso che non s'è fatto grande d'otto anni lo han fatto sbranare dai cani oh gli oscia non è che io bestemmi comprendo bene quale dovrà essere il fremito della creazione quando ogni cosa nei cieli e sotto terra fonderà insieme in un unico grido di osanna e tutto ciò che viene di chi ha vissuto prorromperà giusto sei tu oh signore da che si sono svelate le tue vie certo quando la madre si abbraccerà con l'aguzzino che ha fatto sbranare dai cani il figlio suo e tutte traenneggeranno fra le lacrime giusto sei tu oh signore allora senza dubbio si toccherà l'apice della conoscenza e tutto sarà chiarito ma appunto qui è l'inciampo appunto questo non posso accettare e fin tanto che sto su questa terra io mi affretto a prendere le mie misure vedi agli oscia può anche darsi che effettivamente vada così ma quando sarò giunto a vivere fino a quel momento o resusciterò per vederlo allora anch'io magari prorromperò con tutti gli altri alla vista di quella madre abbracciata al carnefice del suo piccino giusto sei tu oh signore ma io non voglio prorrompere a questo modo finché sono ancora in tempo mi affretto a premunir me stesso e perciò a quella suprema armonia oppongo un netto rifiuto non vale essa le povere lacrime forse anche di quel bambino solo che straziato si batteva col minuscolo pugno sul petto e nel fettido suo canile pregava con le sue ultime lacrime irriscattabili il buon Gesù non vale perché queste piccole lacrime rimarranno irriscattate dovrebbero essere riscattate altrimenti non potrebbe sussistere l'armonia ma in che modo in che modo vorresti mai riscattarle ti pare una cosa possibile forse vuol dire che saranno vendicate ma che me ne faccio della vendetta che ne sarà fatta che me ne faccio dell'inferno per i tormentatori cosa può rimediare qui l'inferno se quelli ormai li han patiti i tormenti e poi che bella armonia se ci sarà l'inferno perdonare voglio io abbracciare voglio non voglio già che si soffra dell'altro e se le sofferenze dei bambini fossero destinate a completare quella somma di sofferenze che era il prezzo necessario per l'acquisto della verità in tal caso io dichiaro fin d'ora che tutta la verità non vale un tal prezzo io non voglio insomma che la madre si abbracci con il carnefice che le ha fatto sbranare suo figlio dai cani essa non deve osare di perdonargli se le pare lo perdoni per proprio conto perdoni pure al carnefice la propria immensa sofferenza materna ma le sofferenze del suo bambino sbranato essa non ha il diritto di perdonarle non oserà perdonare il carnefice neppure il bambino stesso le perdonasse a costui e se sarà così se essi non oseranno perdonare dove sarà dunque l'armonia esiste forse in tutto l'universo un essere che avrebbe la possibilità e il diritto di perdonare non voglio l'armonia per amore stesso dell'umanità non la voglio voglio che si rimanga piuttosto con le sofferenze invendicate preferisco io di rimanere nel mio stato di invendicata sofferenza ed implacato scontento dovessi pure non essere nel giusto troppo caro in conclusione han valutato l'armonia non è davvero per le tasche nostre pagare tanto d'ingresso quindi il mio biglietto d'ingresso io mi affretto a restituirlo e se appena appena sono un uomo onesto ho l'obbligo di restituirlo il più presto possibile e così faccio appunto non è che non accetti Dio agli oscia ma semplicemente gli restituisco con la massima differenza il mio biglietto questo si chiama ribellione piano con gli occhi bassi esclamò agli oscia ribellione non avrai voluto sentire da te una parola simile in tono penetrante disse Ivan non si può mica vivere in stato di ribellione e invece io voglio vivere di tu sinceramente sei tu che chiamo in causa rispondimi supponi che fossi tu stesso a innalzare l'edificio del destino umano con la meta suprema di rendere felici gli uomini di dar loro alla fine la pace e la tranquillità ma per consentire questo si presentasse come necessario e inevitabile far soffrire perlomeno una sola minuscola creatura per esempio proprio quella bambinetta che si batteva col piccolo pugno sul petto e sulle sue invendicate povere lacrime fondare codesto edificio consentiresti tu ad essere l'architetto a queste condizioni parla senza mentire no non consentirei disse piano agli osce e puoi ammettere l'idea che gli uomini per i quali tu edificassi consentirebbero dal canto loro ad accettare la felicità proprio in cambio del sangue ingiustificato ad un piccino straziato e accettando il patto potrebbero rimanessere in eterno infelici no non posso ammetterlo fratello esclamò di improvviso con gli occhi sfavillanti agli osce e tu hai detto un momento fa esiste in tutto l'universo un essere che avrebbe la possibilità e il diritto di perdonare ma questo essere esiste ed esso può tutto perdonare tutti quanti e tutto quanto perché lui per primo ha donato l'innocente sangue suo a favore di tutti e in riparazione di tutto tu ti sei scordato di lui e invece su lui per l'appunto sta fondato l'edificio e sarà a lui che salirà l'inno giusto sei tuo signore perché si sono svelate le tue vie ah si tratta dell'unico senza peccato e del sangue suo no non mi sono scordato di lui e mi meravigliavo anzi mentre si discuteva come mai tu tardassi tanto a venirmi fuori con lui già che comunemente nelle discussioni tutti quelli della parte vostra mettono innanzi lui prima ad ogni altra cosa sai agli oscia ma tu non ridere una volta io ho composto un poema sarà un anno se avessi da perdere con me altri dieci minuti io potrei raccontartelo tu hai scritto un poema o no non l'ho scritto si miseridere Ivan e mai in vita mia non ho scritto neppure due versi ma questo poema l'ho immaginato e l'ho in mente con entusiasmo l'ho immaginato tu sarai il mio primo lettore o meglio uditore perché infatti un autore dovrebbe perdere l'occasione sia pure di un unico uditore ridacchiò Ivan dunque debbo raccontartelo o no io sono tutto orecchi disse Iosha il mio poema si intitola il grande inquisitore è una cosa strampalata ma ho il piacere di farla sentire a te il grande inquisitore ecco anche qui un po' di prefazione è necessaria voglio dire proprio una di quelle prefazioni letterali scoppiò a ridere Ivan e poi già che un po' d'autore sono io vedi l'azione del mio poema si svolge nel sedicesimo secolo e a quei tempi tu del resto lo saprai già dagli anni di scuola a quei tempi c'era appunto l'abitudine nelle produzioni poetiche di portare sulla terra le potenze celesti di Dante non parlo neppure in Francia i clerics dei tribunali e perfino i frati dei conventi davano vere e proprie rappresentazioni nelle quali mettevano in scena la Madonna gli angeli i santi Cristo e addirittura Dio sarà allora in tutto questo una grande ingenuità il Notre Dame de Paris di Victor Hugo per onorare la nascita del delfino a Parigi sotto Luigi XII nella sala del municipio viene data un'edificante e gratuita rappresentazione popolare dal titolo Le Bon Jugement de la Très Sainte et Gracieuse Vierge Marie in cui quest'ultima appare in persona e pronuncia il suo Bon Jugement da noi a Mosca nell'epoca anteriore a Pietro il Grande rappresentazioni drammatiche dello stesso genere ispirate soprattutto all'Antico Testamento si davano pure di quando in quando e contemporaneamente giravano per le mani di tutti una quantità di racconti e di versi in cui agivano l'occorrenza santi, angeli e tutte le potenze del cielo nei nostri monasteri ci si occupava parimenti di tradurre di trascrivere e anche di comporre si fatti i poemi e questo perfino sotto la dominazione dei tartari c'è per esempio il poemetto d'un monaco del greco indubbiamente viaggio della Madonna fra le pene con certe scene e un ardimento da non restare indietro a Dante la Madonna visita l'inferno e a condurla fra le pene è l'arcangelo Michele essa vede i peccatori e i loro tormenti figura tra l'altro un'interessantissima schiera di peccatori in un lago ardente coloro fra questi che si immergono nel lago in modo da non poterne più tornare fuori costoro ormai il Dio se li scorda espressione di profondità e forza straordinarie ed ecco commossa e piangente la Madonna cadere in ginocchio dinanzi al trono di Dio e chieder pietà per quanti stanno all'inferno e per tutti quelli che essa ha veduti là senza distinzioni il suo colloquio con Dio è di enorme interesse essa supplica non recede e quando Dio le accenna ai chiodi che trafiggono le mani e i piedi del figlio al suo e le domanda come potrai perdonare a quelli che ti hanno torturato essa ordina a tutti i santi a tutti i martiri a tutti gli angeli di prostrarsi insieme con lei e di pregare affinché si abbia pietà di tutti senza discriminazioni alla fine essa impetra da Dio che le pene rimangano sospese ogni anno dal venerdì santo al giorno della Santissima Trinità e allora subito i peccatori dall'inferno ringraziano il Signore e osannano a Lui giusto sei tuo Signore che così decretasti ebbene ecco anche il mio poemetto sarebbe stato sul genere di questi se fosse uscito in quell'epoca vi appare in scena Lui benché poi Lui non dica parola in tutto il poema e non faccia che apparire e passare oltre sono già passati quindici secoli dal momento che Lui diede promessa di venire nel suo regno quindici secoli da quando il suo profeta scrisse come annunciò lui stesso mentre era su questa terra ma l'umanità lo aspettò con fede sempre uguale e con sempre uguale tenerezza o anzi con fede ancora più grande già che quindici secoli sono già trascorsi dal tempo che fu sospeso all'uomo ogni pegno cedeste credi a ciò che dice il cuore non più pegni a noi dai cieli e così unica e sola era stata la fede in ciò che dice il cuore certo c'erano allora anche molti miracoli c'erano santi i quali operavano guarigioni miracolose a certi uomini pi secondo i loro biografi scendeva in persona la regina dei cieli ma il diavolo non sonnecchia e fra gli umani era già nato il dubbio sulla veracità di codesti miracoli appunto allora era apparsa nel nord in germania una nuova tremenda eresia un'enorme stella simile a una fiaccola cioè alla chiesa cadde sulle sorgenti delle acque ed esse divennero amare queste eresie cominciarono a rinnegare in modo blasfemo i miracoli ma tanto più ardente era la fede in chi rimaneva credente le lacrime degli uomini salivano a lui come sempre lui aspettavano lui amavano in lui speravano come da sempre ed ecco da tanti secoli ormai l'umanità pregava con fede e compassione signore dio manifestati a noi da tanti secoli alzava a lui il suo grido ed egli nella sua pietà infinita fu colto dal desiderio di scendere ai supplicanti anche prima era avvenuto che egli scendesse e facesse visita a qualcuno dei giusti dei martiri o dei santi eremiti sulla terra secondo sta scritto nelle loro vite fra tutti Tiutchef che aveva una fede profonda nella verità delle sue parole proclamò che sotto la grave sua croce gemendo in lungo e in largo o mia terra natale il re dei cieli a rozzo schiavo uguale è passato su te benedicendo che senza fallo sia così avvenuto è quel che ti dirò ed ecco dunque che egli fu colto dal desiderio di manifestarsi almeno un istante al popolo al popolo angariato sofferente pieno di turpi peccati ma insieme di fanciullesco amore per lui l'azione del mio poema si svolge in Spagna a Siviglia all'epoca più tremenda dell'inquisizione allorché in gloria di Dio s'accendevano quotidianamente in quei paesi i roghi e in auto da fe grandiosissimi gli eretici ardevan vilissimi o non fu questa si intende quella discesa in cui egli si manifesterà secondo la sua promessa alla fine dei tempi in tutta la gloria celeste e avverrà di repente come il lampo che risplende da oriente fino a occidente no lo aveva preso il desiderio di visitare almeno per un istante i suoi figli è proprio là dove stavano crepitando i roghi degli eretici grazie alla sua infinita pietà egli passa ancora una volta fra gli uomini in quella stessa forma umana in cui sarà girato fra loro per 33 anni 15 secoli prima egli scende alle piazze infuocate della città del sud nella quale al più tardi il giorno prima in un grandioso auto da fe a cui assistevano il re la corte cavalieri cardinali e seducentissime dame del seguito ed era presente in una folla innumerevole l'intera civiglia era stato arso in blocco dal cardinale grande inquisitore un buon centinaio di eretici ad a maiorem gloriam dei egli appare in sordina inavvertitamente ed ecco che tutti cosa strana lo riconoscono questo potrebbe essere uno dei luoghi migliori del poema dove si vedesse cioè in che modo propriamente lo riconoscono spinti da una forza irresistibile il popolo si protende a lui lo circonda gli s'addenza intorno lo segue in silenzio egli passa tra mezzo con un lieve sorriso di infinita pietà un sole d'amore arde nel suo cuore i raggi di luce di speranza e di potenza fluiscono dai suoi occhi e riversandosi sugli uomini fanno fremere d'amore dirimando i loro cuori egli tende le braccia li benedice e dal contatto di lui fosse anche appena dei suoi vestimenti emana una forza insanatrice dalla folla ecco gridare un vecchio cieco fin dall'infanzia signore guariscimi così anch'io ti vedrò ed ecco che una specie di squama scivola giù dai suoi occhi e il cieco lo vede la gente piange e bacia la terra su cui egli cammina i bambini gli gettano innanzi dei fiori cantano e inneggiano a lui osanna è lui è proprio lui ripetono tutti deve essere lui non può essere altri che lui egli si ferma all'ingresso della cattedrale di Siviglia nel preciso momento in cui recano al tempio fra i pianti una bianca aperta cassettina di bimbo là dentro una bambinetta di sette anni unica figlia di un maggiorente della città il cadaverino è tutto ricoperto di fiori egli risusciterà la tua creatura gridano di tra la folla la madre piangente uscito incontro al morto il titolare della cattedrale guarda attonito e aggrotta le ciglia ma ecco prorompere il pianto della madre della morticina essa saggettata ai piedi di lui se sei tu risuscita la mia creatura grida tendendo a lui le braccia la processione si ferma la piccola cassa viene deposta sulla scalinata ai suoi piedi egli la guarda con pietà e le sue labbra piano pronunciano ancora una volta talitacumi fanciullina svegliati la bambinetta si solleva nella cassa si mette a sedere e si guarda intorno sorridendo stupita con gli occhietti spalancati giro giro fra le mani ha il mazzo di rose bianche con cui stava adagiata nella cassa la folla tumultua gridi singhiozzi quando ecco proprio in quell'istante passar d'improvviso presso la cattedrale per la piazza il cardinale in persona il grande inquisitore è un vecchio è un vecchio di quasi 90 anni alto e dritto col viso scarno e gli occhi incavati dai quali tuttavia brilla ancora come una favilla lo sfolgorio dello sguardo oh ha veduto ha veduto ha veduto come hanno deposto la cassa ai piedi di lui ha veduto com'è risuscitata la fanciullina e il viso gli si era abbuiato aggrotta le canute folte sopra la cilia e il suo sguardo s'accende ed un fuoco pieno di rancore facendo col dito e ordina alle guardie che lo prendano ed ecco tanta è la sua potenza e a tal segno il popolo ormai assuefatto sottomesso e pronto a obbedirgli che immediatamente la folla si apre a far passare le guardie e queste nel mortale silenzio sopravvenuto di colpo pongono le mani su lui e lo conducono via la folla istantaneamente come un solo uomo si curva con le teste fino a terra dinnanzi al venerando inquisitore questi in silenzio benedice il popolo e passa oltre le guardie conducono il prigioniero all'angusta bui a prigione a volte dell'antico edificio del sacro tribunale e lo rinchiudono lì la giornata volge alla fine sopravviene la cupa calda sivigliana notte senza respiro l'aria il auro e di limone odora nel profondo tenebrore s'apre d'improvviso la porta di ferro della prigione e in persona il vecchio grande inquisitore con una lampada nella mano lentamente entra nel carcere è solo la porta dietro a lui si richiude subito si ferma presso la soglia e a lungo per un minuto o due fissa lo sguardo nel viso di lui alla fine ad agio s'appressa posa la lampada sul tavolo e gli dice sai tu sai tu ma non ricevendo risposta s'affretta a soggiungere non rispondere taci e che cosa mai potresti tu dire so fin troppo bene che cosa diresti ma tu non hai neppure il diritto di aggiungere qualcosa a quello che già è stato detto da te in precedenza perché dunque sei venuto a darci in paccio già che tu sei venuto a darci in paccio e sei il primo a saperlo ma sai di che cosa avverrà domani io non so chi tu sia e non voglio sapere se sei tu o soltanto un simulacro di lui ma domani stesso io ti condannerò e ti brucerò sul rogo come il peggiore degli eretici e quello stesso popolo che oggi baciava i tuoi piedi domani a un mio semplice cenno si precipiterà ad accostare le braci al rogo tuo sai tu questo già tu forse lo sai soggiunge il vecchio in una intensa riflessione senza staccare un istante lo sguardo dal proprio prigioniero io non capisco bene Yves di che cosa si tratti sorriso agli oscia che aveva ascoltato fin qui senza far parola è semplicemente una fantasia sbrigliata o si tratta di un errore del vecchio di non so quale inaudito qui pro quo intendila un po' in quest'ultimo modo scoppiò a ridere Yves se già ti è viziato tanto il realismo contemporaneo che non può tollerare nulla di fantastico sia per il qui pro quo se così preferisci è un fatto tornò a ridere che il vecchio aveva 90 anni e da un pezzo poteva dare in ciampanelle con quella sua idea fissa il prigioniero del canto suo poteva avere un aspetto atto a colpirlo e poteva anche essere in fondo un delirio puro e semplice un'allucinazione di un vecchio novantenne prossimo alla morte e più che mai esaltato dall'auto da fe della vigilia con i suoi cento eretici arsi vivi ma questa è una questione che a noi due importa poco qui pro quo fantasia sbagliata quel che importa qui è che il vecchio ha bisogno di esprimere ciò che gli sta nell'anima e finalmente viene ad esprimere tutto ciò che in novant'anni gli si è accumulato dentro e dice ad alta voce ciò che per il corso di novant'anni ha sempre taciuto e il prigioniero anche egli tace sempre guarda all'altro e non pronuncia parola ma appunto così deve essere per ogni buona evenienza di nuovo si mise a ridere Ivan è stato il vecchio stesso a rinfacciargli che egli non ha diritto ad aggiungere nulla a ciò che già a suo tempo fu detto se tu badi bene è proprio qui la caratteristica del cattolicesimo romano almeno per quanto sembra a me tutto come a dire è stato trasmesso da te al papa e tutto quindi si trova ora nelle mani del papa tu dunque adesso puoi anche fare a meno di venire o di impacciarci finché non è tempo se non altro in tal senso non solo essi parlano ma anche scrivono almeno i gesuiti ho letto io coi miei occhi di questa roba nei loro libri di teologia hai tu forse il diritto di annunciarci forse anche uno solo dei misteri di quel mondo dal quale tu sei tornato gli domanda il mio vecchione e lui stesso risponde per lui no non ne hai il diritto affinché nulla si aggiunga a ciò che già a suo tempo è stato detto e non venga tolta agli uomini quella libertà sulla quale tu hai tanto insistito quando eri su questa terra qualsiasi cosa tu annunciassi di nuovo inciderebbe sulla libertà di fede degli uomini già che prenderebbe l'aspetto di un miracolo mentre la libertà della loro fede era cara a te sopra ogni altra cosa fin da allora un migliaio e mezzo d'anni or sono non eri tu che tanto spesso allora dicevi voglio rendervi liberi ma ecco tu hai veduto ora codesti uomini liberi commenta bruscamente il vecchio con pensosa ironia già questa è stata una cosa che ci ha costato assai continua e guarda lui con severità ma l'abbiamo condotta in porto finalmente nel nome tuo per quindici secoli ci siamo tormentati con questa libertà ma ora la è finita è finita da fondo tu non ci credi che sia finita da fondo tu mi guardi con dolcezza e non mi degni neppure del tuo risentimento ma sappi che ora e specialmente in questi momenti codesta gente è persuasa più che non sia stata mai d'essere libera in pieno mentre pure con le proprie stesse mani essi hanno recato a noi la loro libertà e l'hanno umilmente deposta ai tuoi piedi ma questo l'abbiamo fatto noi altri era forse questo che tu desideravi questa la tua libertà io di nuovo non capisco interruppe Aglioscia il vecchio ironizza e si fa beffe nemmeno per sogno non fa anziché scrivere a merito proprio e dei suoi d'essere riusciti una buona volta a soggiogare la libertà e di aver agito così al fine di rendere gli uomini felici già che ora soltanto e qui ben inteso egli si riferisce all'inquisizione è divenuto possibile provvedere per la prima volta alla felicità umana l'uomo è costituzionalmente un ribelle e forse i ribelli possono mai essere felici tu fosti preavvisato a lui dice il vecchio tu non hai avuto davvero difetti di preavvisi e di ammonimenti ma tu non hai dato ascolto ai preavvisi tu hai ricusato l'unica via per cui era possibile ordinare gli uomini alla felicità se non che per buona ventura quando sei ripartito hai affidato ogni cosa a noi tu ci hai promesso tu ci hai sanzionato con la tua parola tu ci hai concesso il diritto di legare e di sciogliere e certamente non puoi neppure pensare di venire a toglierci questo diritto ora perché dunque sei venuto a darci in paccio ma che cosa vuol dire non hai avuto difetto di preavvisi e di ammonimenti domandò gli oscia proprio qui sta la cosa più importante che il vecchio abbia bisogno di esprimere il terribile ingegnoso spirito lo spirito dell'autodistruzione e del non essere continua il vecchio il grande spirito parlò con te nel deserto e ci è stato tramandato nelle scritture che egli ti avrebbe tentato fu proprio così ed era forse possibile dire qualche cosa di più veritiero di ciò che egli ti annunciò nelle sue tre domande e che tu rifiutasti e che nelle scritture passa col nome di tentazioni e pensare che se mai è avvenuto su questa terra un autentico formidabile miracolo fu proprio quel giorno il giorno delle tre tentazioni appunto nel fatto che potessero aver luogo quelle tre domande si realizzò un miracolo se ci si potesse immaginare semplicemente per ipotesi a modi esempio che queste tre domande nel terribile spirito fossero scancellate senza traccia di sui testi e che bisognasse stabilirle di nuovo di nuovo escogitarle e formularle in modo da inserirle ancora una volta nelle scritture e all'uopo si radunassero tutti i sapienti della terra reggitori di stati sommi sacerdoti eruditi filosofi e poeti e si dicesse loro escogitate formulate tre domande ma tali che non solo corrispondano alla grandezza dell'evento ma esprimano per giunta in tre parole in tre sole frasi umane tutta la storia avvenire del mondo e dell'umanità che cosa pensi tu che tutta la sapienza della terra riunita insieme riuscirebbe a escogitare qualcosa di paragonabile per forza e profondità a quelle tre domande che realmente furono poste a te quel giorno dal possente penetrante spirito nel deserto già a queste tre domande già al miracolo stesso del loro manifestarsi si può intendere che si si trova di fronte non già a una labile intelligenza umana ma un'intelligenza eterna e assoluta già che in queste tre domande è come riassunta in blocco e predetta tutta la futura storia umana e sono rivelate le tre forme tipiche in cui verranno a calarsi tutte le irriducibili contraddizioni storiche della natura umana sulla nostra terra allora questo non poteva per anche riuscire così evidente già che l'avvenire era ignoto ma ora che quindici secoli sono passati noi vediamo che tutto in queste tre domande è a tal segno indovinato e predetto e a tal segno se avverato che aggiungervi o togliervi alcunché non è più possibile giudica dunque tu stesso chi fosse nel giusto tu o colui che allora ti interrogò rammenta la prima domanda seppure non proprio alla lettera il suo significato è questo tu vuoi andare nel mondo e ci vai con le mani vuote con non so quale promessa di libertà che quelli nella loro semplicità e nella loro ingenita sregolatezza non possono neppur concepire e ne hanno timore e spavento già che nulla mai fu per l'uomo e per la società umana più insopportabile della libertà ma vedi codeste pietre per questo nudo e rovente deserto convertile in pani e dietro a te l'umanità correrà come un branco di pecore dignitosa e obbediente se anche in continua trepidazione che tu ritragga la mano tua e vengano sospesi loro i tuoi pani ma tu non hai voluto privare l'uomo della libertà e hai rifiutato la proposta giacché dove sarebbe la libertà hai ragionato tu se il consenso fosse comperato col pane tu hai ribattuto che non solo di pane vive l'uomo ma sai anche che il nome appunto di questo pane terreno insorgerà contro di te lo spirito della terra e verrà a guerra con te e ti vincerà e tutti lo seguiranno gridando chi può paragonarsi a questa fiera essa ci ha dato il fuoco rapito al cielo tu sai che passeranno i secoli e l'umanità proclamerà per bocca della sua sapienza e della sua scienza che le male azioni non esistono e quindi non esiste peccato ma ci sono affamati e basta prima sfamateli e poi chiedete loro la virtù ecco che starà scritto sulla bandiera che brandiranno contro di te e alla cui ombra sarà distrutto il tempio tuo al posto del tempio tuo sarà innalzato un nuovo edificio sarà innalzata di nuovo una tremenda torre di babele e sebbene anche questa non verrà condotta a termine come quella d'allora ma pur tuttavia tu avresti potuto evitare questa nuova torre e abbreviarti mill'anni le sofferenze degli uomini già che a noi per l'appunto torneranno costoro quando si saranno tormentati per mill'anni intorno alla torre allora essi ci ricercheranno sotto terra nelle catacombe dove ci saremo nascosti da che noi saremo di nuovo perseguitati e posti a tortura ci ritroveranno e alzeranno a noi l'invocazione datici da mangiare perché coloro che ci han promesso il fuoco del cielo non ce l'hanno dato e allora saremo noi a condurre a termine la loro torre già che a termine la condurrà chi darà da mangiare e da mangiare lo daremo noi solo in nome tuo e mentiremo dicendo di farlo in tuo nome oh già mai già mai senza di noi essi non riusciranno a sfamarsi nessuna scienza potrà dare loro il pane finché rimarranno liberi ma finirà che essi recheranno la libertà loro ai piedi nostri e diranno a noi magari fateci schiavi ma dateci da mangiare capiranno alla fine loro stessi che libertà e pane terreno a sufficienza per ciascuno non sono concepibili insieme poiché già mai già mai non sapranno farsi le giuste parti fra loro si persuaderanno pure che non potranno mai essere liberi perché sono deboli pieni di vizi inconsistenti e sediziosi tu hai promesso loro il pane del cielo ma ripeto ancora che paragone può esserci mai agli occhi della debole eternamente viziosa eternamente ignobile schiatta degli uomini fra quello e il pane della terra e se dietro a te in nome del pane celeste verranno le migliaia le decine di migliaia che ne sarà dei milioni e delle decine di milioni di esseri che non saranno capaci di trascurare il pane terreno per quello celeste o forse ti soncare soltanto le decine di migliaia dei grandi e dei forti rimanenti milioni innumerevoli come la sabbia del mare di quelli che sono deboli ma ti amano non debbono servire che di materiale per i grandi e per i forti no noi abbiamo cari anche i deboli essi sono viziosi e sediziosi ma alla fine saranno proprio loro che diverranno obbedienti essi si stupiranno di noi e ci terranno in conto di dei in compenso del fatto che trovandoci alla loro testa noi avremo consentito ad abolire la libertà che faceva loro paura e a porli sotto il dominio nostro tanto tremendo finirà col sembrare loro essere liberi ma noi diremo che obbediamo a te e che dominiamo nel nome tuo noi le inganneremo di nuovo già che a te non permetteremo più di accostarti a noi e in questo inganno consisterà la sofferenza nostra già che noi saremo costretti a mentire ecco che significava quella prima domanda nel deserto ed ecco che cosa hai rifiutato tu in nome di una libertà che ponesti al di sopra di tutto ma intanto in quella domanda stava racchiuso un grande segreto di questo mondo accettando i pani tu avresti risposto a quella universale e perpetua angoscia umana sia ad ogni uomo in particolare sia dell'umanità nel suo insieme che si esprime nella domanda a chi genufletterci non c'è preoccupazione più assillante e più tormentosa per l'uomo non appena rimanga libero che quella di cercare al più presto qualcuno innanzi al quale genuflettersi ma l'uomo pretende di genuflettersi dinnanzi a ciò che è ormai indiscutibile talmente indiscutibile che innanzi ad esso tutti gli uomini in coro acconsentono a una generale genuflessione e che la preoccupazione di queste misere creature non consiste solo nel cercare qualche cosa di fronte alla quale io o un altro qualunque possiamo genufletterci ma nel cercare una cosa tale che anche tutti gli altri credano in essa e vi si genuflettano e anzi più precisamente tutti quanti insieme appunto questa esigenza di una genuflessione in comune è il più gran tormento di ogni uomo preso a sé e della umanità nel suo insieme fin dal principio dei secoli per bisogno di questa generale genuflessione gli uomini si sono massacrati l'un l'altro a colpi di spada si sono creati degli dei e si sono sfidati l'un l'altro abbandonate i vostri dei e venite a genuflettervi dinnanzi ai nostri altrimenti morti a voi e agli dei vostri e così avverrà fino alla fine del mondo e anche quando saranno scomparsi del mondo gli stessi dei non importa cadranno in ginocchio dinnanzi agli idoli e tu sapevi tu non potevi ignorare questo fondamentale segreto della natura umana ma tu hai rigettato l'unica assoluta bandiera che ti veniva proposta per costringere tutti a genuflettersi dinnanzi a te e concordemente la bandiera del pane terreno e l'hai rigettata in nome della libertà e del pane celeste guarda ora che altro hai fatto tu e sempre di nuovo in nome della libertà ti ripeto che non c'è per l'uomo preoccupazione più ansiosa che di trovare qualcuno a cui affidare al più presto quel dono della libertà col quale quest'essere infelice viene al mondo ma si impossessa della libertà degli uomini solo colui che rende tranquille le loro coscienze col pane ti veniva offerta una bandiera superiore a ogni discordia dagli il pane e l'uomo si inginocchia già che non c'è nulla di più incontestabile del pane ma se nello stesso tempo uno si impadronisce della sua coscienza indipendentemente da te oh allora egli sarà pronto perfino a gettar via il tuo pane e andrà presso a colui che seduce la sua coscienza qui tu vedevi giusto infatti il segreto dell'esistenza umana non sta nel vivere per vivere ma nell'avere un fine per cui vivere se non si prospetta in modo sicuro un fine per cui debba vivere l'uomo non si rassegnerà a vivere e preferirà annichilarsi piuttosto che rimaner sulla terra anche se tutti intorno gli stessero pani a perdita d'occhio questo è vero ma che conseguenza è stata tratta invece di prendere possesso della libertà degli uomini tu gliel'hai resa ancora più grande e dunque hai dimenticato che la pace e magari la morte sono all'uomo più care della libera scelta nella conoscenza del bene e del male non c'è nulla di più ammaliante per l'uomo che la libertà della propria coscienza ma non c'è nulla del pari di più tormentoso ed ecco che invece di solidi fondamenti capaci di tranquillare la coscienza dell'uomo una volta per sempre tu hai scelto tutto ciò che vè di più difforme di più misterioso e di più indefinito hai scelto tutto ciò che è superiore alle forze degli uomini e perciò hai finito per agire come se addirittura non li amasse affatto e questo chi? colui che è venuto a dare per essi la vita sua invece di prendere possesso della libertà umana tu l'hai accresciuta e hai aggravato coi suoi tormenti il regno spirituale dell'uomo per l'eternità tu hai voluto il libero amore dell'uomo hai voluto che liberamente ti seguisse attratto e soggiogato da te al posto della solida vecchia legge con libero cuore l'uomo doveva d'ora innanzi decidere lui stesso che cosa fosse bene e che cosa male senza avere innanzi a sé altra guida che la tua immagine ma possibile mai che tu non abbia pensato che gli avrebbe rigettato infine e addirittura contestato sia la tua immagine sia la tua verità se si fosse trovato oppresso da un peso così tremendo come il libero arbitrio essi avrebbero finito col proclamare che la verità non è in te giacché non sarebbe stato possibile abbandonarli a uno scompiglio e a un tormento peggiori di come hai fatto tu lasciando loro in retaggio tanti affanni e tanti insolubili problemi in tal modo tu stesso hai posto i fondamenti per la distruzione del tuo proprio regno e non puoi darne la colpa a nessun altro ma ben altro che questo era ciò che ti veniva proposto ci sono tre forze soltanto tre forze sulla terra capaci di vincere e di catturare per sempre la coscienza di questi impotenti ribelli per la loro stessa felicità e queste forze sono il miracolo il mistero e l'autorità tu hai rifiutato la prima e la seconda e la terza e sei stato il primo a darne l'esempio allorché il tremendo e sapientissimo spirito ti collocò sul pinnacolo del tempio e ti disse se vuoi sapere se sei il figlio di Dio gettati giù poiché di lui sta scritto che gli anzieli lo afferreranno e lo sorreggeranno e non cadrà e non si farà alcun male e così verrai a sapere se tu sei il figlio di Dio e così darai a vedere qual è la tua fede nel padre tuo tu ascoltati queste parole rifiutasti la proposta e non ti ci assoggettasti e non ti lanciasti giù certamente tu in quel frangente agisti in modo superbo e splendido degno ad un Dio ma gli uomini ma questa debole schiatta sediziosa sono essi forse degli dèi oh tu comprendesti in quel momento che facendo sia pure un passo sia pure il minimo movimento di lanciarti giù immediatamente tu avresti tentato il Signore e avresti perduto tutta la fede che avevi in Lui e ti saresti sfracellato contro quella terra che eri venuto a salvare con gioia dell'ingegnoso spirito che ti aveva tentato ma ripeto sono tanti quelli come te è possibile che tu abbia realmente potuto supporre sia pure un istante che anche gli uomini fossero in grado di sopportare una simile tentazione è forse costituita in modo la natura umana che possa rifiutare il miracolo e che nei momenti tremendi della vita nei momenti più tremendi dei più laceranti e fondamentali quesiti dell'anima possa rimanersene sola con la libera decisione del cuore tu sapevi che il tuo gesto sarebbe stato conservato nelle scritture avrebbe raggiunto le profondità dei tempi e gli estremi limiti della terra e concepisti la speranza che imitando te anche l'uomo sarebbe rimasto con Dio senza aver bisogno del miracolo ma tu non sapevi che non appena l'uomo rifiuti il miracolo subito rifiuterà anche Dio già che l'uomo va in cerca non tanto di Dio quanto dei miracoli e quindi dato che rimanere senza miracoli eccede le capacità dell'uomo questi si fabbricherà dei miracoli nuovi a modo suo stavolta e finirà col genuflettersi dinnanzi al miracolo del ciarlatano dinnanzi al sortilegio della ciana fosse pure le mille volte ribelle eretico e ateo tu non sei disceso dalla croce quando ti gridavano pigliandosi beffe di te scendi dalla croce e crederemo che sei tu tu non sei disceso perché ancora una volta non volesti asservire l'uomo col miracolo e bramavi una fede libera e non una fede vincolata al miracolo bramavi un libero amore e non già le servili e fusioni dello schiavo al cospetto del potente che una volta per sempre lo ha terrorizzato ma anche qui tu hai giudicato troppo altamente gli uomini già che in fin dei conti costoro sono degli schiavi seppure con la costituzione del ribelle guardati attorno e giudica ecco sono passati quindici secoli va e osservali ti hai sollevato fino a te in fede mia l'uomo è costituzionalmente più debole e più vile che tu non lo ritenessi è mai possibile che gli adempia i tuoi voleri e allora anche tu perché hai agito così facendo tanta stima di lui tu ti sei comportato come se cessassi di averne pietà perché troppo in conseguenza hai preteso da lui e questo da parte di chi da parte di colui che lo ha amato più di se stesso facendone minor stima meno avresti pure preteso da lui e avresti agito in modo più vicino all'amore già che più leggero sarebbe stato il suo fardello egli è debole e vile che cosa si nasconde in tutto questo tumultuare che fa ora un po' dovunque contro la nostra potestà e in questo menar vanto del suo ribellarvisi si tratta ad un orgoglio da bambino e da scolaretto sono dei piccoli ragazzi che fanno rivoluzione in classe e cacciano fuori il maestro ma verrà la fine anche per l'ebbrezza dei ragazzetti e questo costerà loro salata essi rovesceranno i templi e non deranno di sangue la terra ma arriveranno a capire alla fine questi sciocchi bambini che seppure sono dei ribelli sono però dei ribelli di fiato corto incapaci di sostenere il peso della loro stessa ribellione grondanti delle proprie stupide lacrime si confesseranno alla fine che chi li creò ribelli voleva senza dubbio beffarsi di loro diranno questo con disperazione e le loro parole saranno una bestemmia per cui diverranno ancora più infelici da che la natura umana non tollera la bestemmia e presto o tardi finisce sempre col vendicarsene su se stessa cosicché irrequietezza rivolta a infelicità ecco quale ora è il destino degli uomini dopo che tu hai affrontato tanta sofferenza per dar loro la libertà il grande profeta tuo in visione e in allegoria dice di aver veduto tutti i compartecipi della prima resurrezione e che ce n'erano in ragione di 12.000 per ciascuna generazione ma se erano tanti costorano pur sempre più che uomini erano i dii essi avevano sopportato la tua croce avevano sopportato decine d'anni di affamato e nudo deserto nutriendosi di locusta e di radici e sì certamente tu puoi con orgoglio additarci questi figli della libertà del libero amore del libero e splendido sacrificio di se stessi in nome tuo ma tieni a mente che costoro erano in tutto qualche migliaio ed erano dei ma tutti gli altri e che colpa hanno tutti gli altri i deboli se non sono stati capaci di sopportare quel che han sopportato i forti che colpa ha un'anima debole se non è in grado di accogliere in sé doni tanto tremendi e allora dunque tu sei venuto senz'altro fra gli eletti e per gli eletti ma se è così qui c'è un mistero e non è da noi comprenderlo e se un mistero c'è allora anche noi abbiamo il diritto di predicare il mistero ed insegnare agli uomini che non la libera decisione dei loro cuori e ciò che importa e non l'amore ma il mistero al quale essi hanno l'obbligo di assoggettarsi ciecamente e addirittura indipendentemente dalla loro coscienza e appunto così abbiamo fatto noi noi abbiamo emendato la tua gesta e le abbiamo dato per fondamento il miracolo il mistero e l'autorità gli uomini si sono rallegrati che di nuovo li conducessero come un gregge e che dai loro cuori fosse stato tolto finalmente un dono tanto tremendo che aveva arrecato loro tanto tormento abbiamo avuto ragione di insegnare e di agire così parla non abbiamo forse amato noi altri l'umanità tanto umilmente riconoscendo la sua impotenza con tanto amore alleggerendo il suo fardello e permettendo alla debole sua natura sia pure di peccare ma col nostro permesso a che dunque sei venuto ora qui a darci in paccio e che vuoi tu che in silenzio intensamente mi guardi coi dolci occhi tuoi a dirati pure non voglio io l'amor tuo perché dal canto mio non ti amo e che ragione avrai di nascondere qualcosa a te o che forse non so con chi sto parlando ciò che ho da dirti già a te è tutto noto io lo leggo io lo leggo nei tuoi occhi e sarei io a nasconderti il segreto nostro probabilmente tu vuoi appunto sentirlo dalle labbra mie ascoltalo dunque noi non siamo come te siamo con lui ecco il nostro segreto già da gran tempo noi non siamo con te ma con lui sono ormai otto secoli sono precisamente otto secoli che noi abbiamo preso da lui ciò che tu sdegnosamente rifiutasti quell'ultimo dono che lui ti offrì mostrandoti tutti i regni della terra noi abbiamo preso da lui Roma e la spada di Cesare e abbiamo proclamato di essere noi soli i sovrani della terra i sovrani unici seppure finora non siamo per anche riusciti a realizzare in pieno il nostro assunto ma di chi è la colpa il nostro assunto si trova ancora soltanto agli inizi ma l'inizio c'è stato ancora a lungo se ne dovrà aspettare il compimento e ancora molte sofferenze patirà la terra ma noi raggiungeremo la meta e diverremo Cesari e allora sì che provvederemo all'universale felicità degli uomini ma pensare che tu avresti potuto fin da allora prendere la spada di Cesare perché tu rifiutasti quest'ultimo dono accettando questo terzo consiglio del possente spirito tu avresti realizzato in pieno tutto ciò che l'uomo cerca su questa terra e cioè dinnanzi a chi genuflettersi a chi affidare la propria coscienza e in che modo infine riunirsi tutti in un indiscusso comune e concorde formicaio da che l'esigenza ad una unione universale è il terzo e ultimo assillo degli uomini sempre l'umanità nel suo insieme ha sentito un'aspirazione precisa a darsi un assetto che fosse universale molti sono stati i popoli grandi che hanno avuto una grande storia ma quanto più alto sono saliti codesti popoli tanto più sono stati infelici giacché con più forza che agli altri si è rivelata loro l'esigenza di un'unione universale fra gli uomini i celebri conquistatori i Timur e i Gengis Khan sono passati come un turbina sulla terra aspirando a conquistare l'universo ma anche loro sempre in modo inconscio esprimevano quella stessa profonda esigenza propria dell'umanità di un'unione generale e universale accettando il mondo e la porpora di Cesare tu avresti fondato un reame universale e avresti dato a tutto il mondo la pace giacché chi mai può avere il dominio degli uomini meglio di coloro che hanno il dominio della loro coscienza e che hanno in mano il pane loro e noi abbiamo appunto preso la spada di Cesare e senza dubbio prendendola abbiamo rifiutato te e ci siamo messi al seguito di lui oh ne passeranno ancora dei secoli nel bailam della libera intelligenza della scienza umana e dell'antropofagia poiché avendo cominciato a edificare la torre di Babele senza di noi andranno a finire con l'antropofagia ma verrà pure un giorno che la fiera s'appresserà a noi e si metterà a leccare i nostri piedi e ad annaffiarli con le lacrime sanguinolente dei suoi occhi e noi monteremo sulla fiera e innalzeremo la coppa e su questa sarà scritto mistero ma allora e soltanto allora sopraverrà per gli uomini il regno della pace e della felicità tu sei orgoglioso dei tuoi eletti ma con te ti sono solo gli eletti mentre noi diamo la pace a tutti e non basta quanti di questi eletti quanti dei forti che sarebbero potuto diventare eletti si sono stancati alla fine di aspettarti e hanno portato e continuano a portare le loro forze in altri campi e finiscono con levare proprio contro te la loro libera bandiera ma sei stato tu che hai innalzato con te sta bandiera con noi altri invece tutti saranno felici e non continueranno più né a ribellarsi né a sterminarsi l'un l'altro come nella tua libertà per tutta la terra oh noi li convinceremo che soltanto allora li verranno liberi quando rinunceranno alla loro libertà per noi e a noi si sottometteranno e di fatto saremo nella verità o mentiremo loro stessi si convinceranno che avremo ragione noi già che si ricorderanno a quali orrori di schiavitù e di convulsioni sociali li aveva condotti la libertà tua la libertà la libera intelligenza e la scienza li avranno condotti in tali forteti e li avranno posti dinanzi a tali prodigi e a tali insolubili misteri che alcuni di essi insofferenti e violenti si saranno tolti da sé la vita altri insofferenti ma deboli si saranno sterminati l'un l'altro e i rimanenti deboli e infelici si appresseranno ai nostri piedi e inneggeranno a noi si voi avete ragione voi soli eravate in possesso del mistero di lui e noi facciamo ritorno a voi salvateci da noi stessi naturalmente ricevendo il pane da noi vedranno con chiarezza che noi toglieremo loro il loro stesso pane il frutto del loro stesso lavoro al fine di ridistribuirlo appunto a loro senza miracoli di sorta si avvedranno che noi non abbiamo tramutato le pietre in pani ma saranno in verità anche più che del pane stesso felici di riceverlo dalle nostre mani perché si ricorderanno troppo bene che prima quando noi non c'eravamo il pane stesso prodotto da loro si tramutava in mano loro in tante pietre mentre tornati a noi le pietre stesse nelle loro mani si saranno tramutate in pani troppo bene sapranno apprezzare che cosa significa sottomettersi una volta per sempre e finché gli uomini non avranno capito questo saranno infelici che è stato il principale artefice di questa incomprensione parla chi ha scompigliato il greggio e lo ha sparpagliato per vie sconosciute ma il greggio di nuovo si radunerà e di nuovo si sottometterà e stavolta per sempre allora noi gli daremo una quieta umile felicità una felicità da esseri deboli quali costituzionalmente essi sono oh noi li persuaderemo alla fine a non essere orgogliosi già che tu li hai sollevati in alto e così hai insegnato loro a inorgoglirsi dimostreremo loro che sono deboli che non sono altro che dei poveri bambini ma che in compenso la felicità bambinesca è la più suave di tutte essi si faranno timidi e si avvezzeranno a girare i loro occhi a noi e a stringersi a noi tutti spaventati come pulcini alla chioccia ad ogni movimento che faranno proveranno un terrore di noi e insieme un orgoglio della potenza e dell'intelligenza nostre tanto grandi da aver saputo ammansire un così indocile greggio di migliaia di uomini una pusillanime trepidazione dell'ira nostra si impadronirà di loro le loro intelligenze si intimidiranno i loro occhi diverranno facili alle lacrime come quelli dei bambini e delle donne ma con altrettanta facilità a un nostro cenno passeranno all'allegria e al riso alla più limpida gioia e alle beate canzoncine infantili sì noi li obbligheremo a lavorare ma nelle ore libere dal lavoro daremo alla loro vita un assetto come un gioco infantile con canzoni da bambini cori e danze innocenti oh noi permetteremo loro anche il peccato sono così fragili e impotenti e loro ci vorranno bene come bambini per il fatto che noi permetteremo loro di peccare noi diremo loro che ogni peccato sarà rimesso se compiuto col permesso nostro e il permesso di peccare noi glielo concederemo perché li amiamo e il castigo di questi peccati è bene noi ce lo assumeremo a nostro carico e loro ci adoreranno come benefattori che si sono accollati i peccati loro di fronte a Dio ed essi non ci terranno nascosto assolutamente nulla di loro stessi noi permetteremo loro o proibiremo di vivere con le loro mogli e amanti di avere o non avere figli sempre regolandoci sul loro grado di docilità ed essi si sottometteranno a noi lietamente e con gioia perfino i più torturanti segreti della loro coscienza tutto tutto porranno in mano a noi e noi tutto risolveremo ed essi si affideranno con gioia alla decisione nostra perché questa li avrà liberati dal grave affanno e dai tremendi tormenti che accompagnano ora la decisione libera e personale e tutti saranno felici tutti gli esseri a milioni eccettuate le centinaia di migliaia di quelli che ne avranno il governo già che noi soli noi che dovremo custodire il segreto noi e nessun altro saremo infelici ci saranno migliaia di milioni di fanciulli felici e centomila martiri che avranno presa su di loro la maledizione della conoscenza del bene e del male in silenzio essi morranno in silenzio si estingueranno nel nome tuo e oltre la tomba non troveranno che la morte ma noi manterremo il segreto e per la loro stessa felicità li culleremo nell'illusione in una ricompensa celeste ed eterna infatti seppure ci fosse qualcosa nel mondo di là non sarebbe davvero per la gente simile a loro dicono e profetizzano che tu verrai e di nuovo sarai vittorioso verrai con i tuoi eletti con i tuoi orgogliosi e forti ma noi diremo che essi hanno salvato soltanto se stessi mentre noi abbiamo salvato tutti quanti dicono che sarà ricoperta ad obrobrio la meretrice assisa sulla fiera che regge fra le mani la coppa del mistero che di nuovo si leveranno a tumulti i deboli lacereranno la porpora di lei e denuderanno il suo sordido corpo ma allora io mi leverò e ti additerò le migliaia di milioni di fanciulli felici ignari del peccato e noi che ci saremo accollati i peccati loro per farli felici noi ci pianteremo dinnanzi a te e diremo condannaci se puoi e se osi sappi che io non ti temo sappi che anch'io sono stato nel deserto anch'io mi sono nutrito di locusta e di radici anch'io ho benedetto la libertà con la quale tu avevi benedetto gli uomini e anch'io mi ero preparato a entrare nel numero degli eletti tuoi nel numero dei capaci e dei forti bramando di compiere il numero ma io ho aperto gli occhi e non ho voluto servir la follia ho virato di bordo e mi sono aggregato alla schiera di quelli che hanno emendato la tua gesta ho tirato le spalle agli orgogliosi e mi sono rivolto agli umili per la felicità di codesti umili ciò che io sto dicendo a te si avvererà e il regno nostro sarà fondato ti ripeto domani stesso tu vedrai questo docile gregge come al mio primo cenno si lancerà ad ammassare le braci ardenti al rogo tuo al rogo sul quale ti farò bruciare per essere venuto qui a darci in paccio già che se mai c'è stato uno che più d'ogni altro ha meritato il nostro rogo questi sei tu domani ti farò bruciare Ivan Tacque sarà calorato parlando e aveva parlato con trasporto ma quando ebbe finito di colpo sorrise agli oscia che lo aveva sempre ascoltato in silenzio e verso la fine in un'insolita agitazione aveva più volte accennato a interrompere il discorso del fratello ma sarà visibilmente frenato improvviso cominciò a parlare come gli scattasse dentro una molla ma è una cosa che non regge esclamò arrossendo il tuo poema è un'esaltazione di Gesù e non già una detrazione come tu avresti voluto e chi persuaderai per quanto tocca la libertà come se così così bisognasse intenderla benaltra la concezione della chiesa ortodossa è Roma questa e non tutto di Roma è la parte falsa sono gli esponenti peggiori del cattolicesimo gli inquisitori i gesuiti e poi non può assolutamente esistere un personaggio fantastico della risma del tuo inquisitore che roba sono questi peccati degli uomini presi su di sé che sono questi portatori del mistero che prendono su di sé una specie di maledizione per la felicità degli uomini quando mai si sono visti si sa dei gesuiti se ne dicono tante brutte cose mai si sono forse come nel tuo poema non sono davvero così sono tutt'altra cosa sono semplicemente l'esercito che deve conquistare a Roma il futuro impero su tutta la terra col romano pontefice alla testa ecco l'ideale loro ma senza tanti segreti né nobili tristezze il più semplice desiderio di potenza di crassi beni terrestri di asservimento una fattispecie di nuova servitù della gleba in cui essi avrebbero il posto dei proprietari terrieri ecco tutto quello che vogliono loro non credono neppure in dio probabilmente il tuo il citore martire è una fantasia nient'altro ma aspetta aspetta un momento risa Ivan come ti sei riscaldato una fantasia dici tu ma sia pure innegabilmente è una fantasia ma permetti però davvero tu credi che tutto questo movimento cattolico degli ultimi secoli non si riduca realmente a nient'altro che a un desiderio di potenza mirante unicamente ai beni più crassi sarà forse padre Paisì che ti insegna così no no al contrario padre Paisì ne ha parlato anzi una volta in modo non troppo dissimile da te ma ben inteso non era mica la stessa cosa era tutt'altro si riprese bruscamente agli oscia preziosa testimonianza in ogni modo a dispetto del tuo era tutt'altro io ti domando semplicemente per qual ragione i tuoi gesuiti e inquisitori dovrebbero essersi congregati insieme senza altra mira che di bassi beni materiali per qual ragione fra essi non potrebbe trovarsi neppure un martire assillato da una nobile afflizione pieno d'amore per gli uomini vedi supponi che ce ne sia almeno uno fra tutti quelli che bramano esclusivamente beni materiali e fangosi ce ne sia almeno uno come il vecchio inquisitore che abbia mangiato anche lui le radici nel deserto che si sia accanito a domare la propria carne per farsi libero e perfetto ma intanto non abbia cessato un istante di amare gli uomini ed improvviso si sia riscosso e abbia capito che non è gran cosa la beatitudine morale di toccare la perfezione del volere e nello stesso tempo chi si debba persuadere che milioni di altre creature di Dio non rimangono al mondo che per essere beffate che non mai saranno in grado di tenersi all'altezza della loro libertà che da simili miserevoli ribelli non sarà mai che escano i giganti necessari al compimento della torre e che non per questa razza d'ocche il grande idealista aveva sognato la sua armonia una volta compreso questo il nostro uomo ha fatto dietro front e si è schierato con le persone intelligenti forse che questo non è potuto accadere con chi si è schierato con quali persone intelligenti quasi con rabbia proruppi agli oscia non c'è neppure l'ombra in quelli là di questa grande intelligenza e neppure l'ombra di tutti questi misteri e segreti non ci sarà altro piuttosto che nella miscredenza ecco in che consiste tutto il loro segreto il tuo inquisitore non crede in Dio ecco in che consiste tutto il suo segreto fosse pure così finalmente ci ha indovinato e infatti così è infatti sta qui tutto il segreto ma che forse non è pur questa una sofferenza almeno per un uomo come il nostro che ha immolato tutta la sua vita a una prova eroica nel deserto e non è guarito dall'amore per l'umanità al tramonto dei suoi giorni egli acquista la chiara persuasione che soltanto i consigli del grande e tremendo spirito potrebbe almeno peggio sistemare in un assetto decente i deboli rivoltosi incompiute creature sperimentali create per beffa ed ecco che convintosi di questo egli vede che è necessario andare nel senso indicato dal penetrante spirito dal tremendo spirito della morte e della distruzione e quindi accettare la menzogna e l'inganno e condurre gli uomini scientemente alla morte all'annientamento e di pari passo ingannarli per tutto il cammino di modo che essi non si accorgano affatto dove vengano condotti e per lo meno mentre sono in cammino questi miseri ciechi si considerino felici e tieni ben presente che l'inganno è fatto in nome di colui nell'ideale del quale il vecchio ha così appassionatamente creduto per tutta la vita e poi questa non è infelicità e posto che almeno un uomo si fatto si trovasse alla testa di tutta questa armata che brama di potere senz'altro mira che nei beni più bassi ebbene non ne basterebbe uno solo perché si avesse la tragedia non solo ma basterebbe sia pure un uomo si fatto che si trovasse ai posti di comando perché si ravvisasse finalmente il vero pensiero conduttore di tutta l'organizzazione di Roma con tutte le sue armate e i suoi gesuiti il pensiero più intimo di questa organizzazione io ti dico francamente che ho la ferma convinzione che questo tipo di uomo solitario non deve essere mai venuto meno fra coloro che si trovano alla testa del movimento chissà perfino tra i pontifici romani possono essere capitati questi uomini solitari e chissà che questo vecchio maledetto che con tanta caparbia e in maniera così singolare amava l'umanità non sussista anche attualmente sotto forma ad una numerosa congrega di simili vecchi solitari e non già accidentalmente ma come una setta determinata come una lega occulta già da gran tempo costituita per il mantenimento del segreto da preservare nascosto agli infelici e ai deboli allo scopo di farli felici c'è di sicuro questo e anzi bisogna che per forza ci sia mi fa capolino l'idea che perfino la massoneria abbia appunto a suo fondamento qualcosa di simile a questo segreto e che sia questo il motivo per cui i cattolici hanno tanto in odio i massoni perché vedono in essi dei concorrenti un frantumarsi dell'unicità della loro idea mentre unico dovrebbe essere il grezze e unico il pastore del resto poi prendendo le difese del mio pensiero io faccio la figura di un autore che non sopporti la tua critica basti di questo tu forse non sei appunto che un massone sfuggi di improvviso dagli oscia tu non credi in dio soggiunse quindi ma già in tono di infinita amarezza aveva oltretutto l'impressione che il fratello lo guardasse con sarcasmo e in che modo finisce il tuo poema domandò a un tratto con lo sguardo a terra o forse è già finito così io volevo finirlo in questo modo quando l'inquisitore ha terminato rimane per un tratto di tempo in attesa che il prigioniero gli risponda il silenzio di lui gli riesce gravoso ha osservato come finora l'incatenato si è restato in ascolto col penetrante e pacato sguardo fisso negli occhi suoi senza desiderare evidentemente di ribattergli nulla al vecchio piacerebbe che quello gli dicesse qualche cosa forse anche qualche cosa di amaro di tremendo ma egli di colpo in silenzio si appressa il vecchio e lievemente lo bacia sulle esanguilabbra di novantenne ecco tutta la risposta il vecchio sussulta un fremito contrae gli angoli delle sue labbra si dirige alla porta l'apre e gli dice va e non venire più non venire più a nessun costo mai mai più e lo fa scivolare verso gli oscuri meandri della città il prigioniero si dilegua e il vecchio quel bacio gli brucia in cuore ma il vecchio rimane fisso nell'idea di prima e tu con lui tu ugualmente con un accento di dolore esclamò agli osce Ivan ruppe a ridere ma sai non si tratta che di una pappolata agli osce mio non si tratta che dell'insulso poema di un insulso studente che non ha mai messo in carta due versi perché tu la prendi tanto sul serio non penserei mica che adesso io voglia andarmene dritto dritto là dai gesuiti per mettermi nella congrega di quelli intenti a demandare le gesta di lui oh signore mi importa tanto di tutto questo te l'ho già detto mi pare ma contento di tirar là fino ai trent'anni e poi giù la coppa al suolo e le gemmette vischiose e i cari sepolcri e l'azzurro del cielo e la donna amata come farai a vivere che cosa ti darà la forza di amarli dolorosamente proruppi agli oscia con simile inferno nel petto e nel cervello ti pare una cosa possibile no senza dubbio tu parli per andare ad aggregarti a quelli e se così non fosse tu ti ucciderai che non potrai resistere c'è una forza che resisterà a tutto già freddamente berfardo esclamò iva quale forza quella dei karamazov la forza della bassezza karamazoviana ossia affogare nella dissolutezza affogare l'anima nella corruzione è questo è questo magari anche questo soltanto che fino ai 30 anni forse riuscirò a sfuggirvi e quando poi sarò a quel punto ma come riuscirai a sfuggirvi che cosa ti darà la forza di sfuggirvi è una cosa impossibile coi pensieri che hai da capo alla maniera dei karamazov nel senso allora che tutto è permesso tutto è permesso è questo che intendi è questo ivan saciliò ed improvviso in modo un po' strano impallidì ah tu vieni a ribadirmi la frasetta di ieri che ha tanto ferito miusof e che tanto ingenuamente nostro fratello dimitri è saltato su a commentare contraste le labbra in un visolino sì vada pure tutto è permesso da che ormai la parola è stata detta non la ritratto e anche la redenzione del nostro mitia non è mica male agli oscia in silenzio lo fissava io fratello accingendomi a partire pensavo che in tutto il mondo avesse almeno te con inattesa appassionatezza esclamò a bruciapelo ivan ma ormai ma vedo che anche nel tuo cuore per me non c'è posto caro il mio una corretta la formula tutto è permesso io non la rifiuto e perciò ecco che tu rifiuti me non è vero non è vero che è così agli oscia salzò gli si accostò e senza dir nulla lievemente lo baciò sulle labbra plagio letterario insorse ivan passando di colpo a una specie di esultanza è un furto questo che tu hai fatto al mio poema grazie in ogni modo alzati agli oscia andiamo è tempo per me e per te uscirono ma si soffermarono presso l'entrata della trattoria sai agli oscia disse ivan con voce ferma se avrò veramente la forza di guardare alle gemmette vischiose potrò amarle soltanto ricordandomi di te mi sarà sufficiente che ecco in un angolo del mondo ci sia tu e il vivere non riuscirà a venermi a nausea è sufficiente questo per te se ti pare prendila pure per una dichiarazione d'amore ma adesso tu a destra io a sinistra e basta così mi intendi basta così voglio dire che seppure domani io non partissi credo però che partirò senz'altro e noi di nuovo avessimo in qualche modo a rincontrarci ormai di tutti questi argomenti tu non mi farai più parola te ne prego vivamente e sul conto di dimitri ugualmente te ne prego in modo particolare non farmi mai più il minimo cenno incalzò bruscamente esasperato tutto ormai è esaurito tutto è stato detto e ridetto non è vero e a te dal canto mio io pure farò in compenso una promessa quando a trent'anni mi assalirà la voglia di frantumare la coppa al suolo allora dovunque tu ti trovassi io verrò ancora una volta a discorrere con te dovessi anche venire dall'America sappilo bene proprio apposta verrò sarà assai interessante vedere un po' anche di te come sarai diventato a quell'epoca come vedi è una promessa abbastanza solenne e realmente sarà è per sette anni per dieci che noi ora ci stiamo accomiatando beh adesso avviati dal tuo pater seraficus già che quello sta per morire morrà mentre tu non ci sei e allora peggio che mai caro mio te la prenderai con me che t'ho trattenuto qui arrivederci baciami ancora una volta ecco così e va bruscamente Ivan voltò le spalle e se ne andò per la strada sua senza rigirarsi più fu qualche cosa di simile a quando Dimitri iarsera aveva lasciato Agiosha benché iarsera le circostanze fossero molto diverse questo strano sentimento attraversò come una freccia nella mente afflitta di Agiosha afflitta e dolorante in questi istanti un pochino si attardò lì seguendo con lo sguardo il fratello e a un tratto gli venne fatto d'accorsarsi che Ivan camminava con un'andatura ondeggiante e che la spalla destra di lui a guardarla così da dietro sembrava più bassa della sinistra mai prima d'oggi si era accorto ad una cosa simile ma di colpo voltò anche lui le spalle e quasi di corsa salviò il convento il crepuscolo era già inoltrato e lui sentiva una specie di terrore qualcosa gli cresceva nell'intimo diverso dal solito di cui non avrebbe saputo rendersi conto si era levato di nuovo come iarsera il vento e i pini centenari cupamente gli stormivano intorno quando entrò nel boschetto dell'asceterio andava quasi di corsa pater seraficus è un nome che ha preso da qualche libro di dove mai palenoa da lioscia Ivan povero Ivan e quando ora ti rivedrò ecco l'eremo signore si si se egli qui è il pater seraficus ed egli mi salverà da lui e per sempre in seguito lioscia ebbe a ripensare più volte con grande stupore come avesse potuto tutto a un tratto dopo essersi separato da Ivan dimenticare così totalmente il fratello dimitri che pure al mattino poche ore fa s'era proposto di trovare a ogni costo a rischio magari di non tornare per stanotte al convento fra il losco ed il brusco dal canto suo Ivar Fiodorovic dopo aver salutato gli oscia tornò a casa a casa di Fiodor Paolovie ma cosa strana all'improvviso lo aveva sopraffatto un'insopportabile angoscia che cosa ancora più notevole ad ogni passo man mano che si avvicinava alla casa cresceva sempre di più non era l'angoscia in sé ad essere strana ma era strano che Ivan Fiodorovic non sapesse in alcun modo definire in che cosa consistesse quell'angoscia gli era capitato spesso anche in passato di sentirsi angosciato e non c'era da meravigliarsi che l'angoscia lo assalisse proprio alla vigilia del giorno in cui rotti bruscamente ai ponti con tutto ciò che lo aveva attirato lì si apprestasse a dare una netta svolta alla sua vita per imboccare una strada nuova completamente ignota ritrovandosi ancora una volta completamente solo come prima pieno di speranza pur non sapendo in che cosa sperare aspettandosi molto molto dalla vita ma incapace di definire alcunché sia riguardo alle sue aspettative sia riguardo alle sue speranze eppure sebbene l'angoscia della novità e dell'ignoto fosse presente nella sua anima era ben altro a tormentarlo adesso e se fosse ripugnanza per la casa paterna si domandava è probabile che sia così provo una tale avversione verso quella casa che sebbene oggi sia l'ultima volta che oltrepasso quella odiosa soglia tuttavia ne provo ribrezzo ma no non era nemmeno quello era forse l'addio con agioscia e la conversazione avuta con lui per tanti anni ho taciuto con il mondo intero e non mi sono mai degnato di dire una parola e adesso così di punto in bianco ti vado a snocciolare quel po' di tiritera e di fatti poteva ben trattarsi di stizza giovanile originata da inesperienza giovanile e giovanile amor proprio la stizza di non essere riuscito a esprimersi adeguatamente e per di più con una persona come agioscia sulla quale il suo cuore indubbiamente contava molto certo si trattava anche di questo della sua stizza cioè ma ancora una volta non era esattamente quello questa angoscia mi dà la nausea ma non sono in grado di definire quello che voglio meglio non pensarci Ivan Fiodorovich provò a non pensare ma fu inutile ciò che lo infastidiva e lo irritava di quella angoscia era il fatto che essa avesse un certo aspetto casuale decisamente esteriore questo lo sentiva si era lì impalato spuntava da qualche parte un essere o un oggetto come quando ti spunta qualcosa davanti agli occhi ma non te ne accorgi per un pezzo preso come sai da qualche faccenda o da animata conversazione e intanto provi irritazione quasi tormento fino a quando non capisci finalmente di che si tratta e rimuovi l'oggetto fuori posto spesso si tratta di oggetti molto insignificanti e stupidi un fazzoletto caduto sul pavimento a un libro non rimesso nello scaffale e così via finalmente Ivan Fiodorovich ormai di umore nero irritabile giunse alla casa paterna e all'improvviso a una quindicina di passi circa dalla porticina gettando un'occhiata al portone comprese di colpo che cosa lo tormentava e lo inquietava in quel modo sulla panchina accanto al portone se ne stava piazzato a prendere l'aria fresca della sera il lacchè Smerdyakov Ivan Fiodorovich sin dal primo sguardo capì che il lacchè Smerdyakov se ne stava piazzato anche nella sua anima era quell'uomo che la sua anima non riusciva non riusciva a tollerare all'improvviso tutto si illuminò e divenne chiaro poco prima sin da quando Agiosha gli aveva raccontato del suo incontro con Smerdyakov una sensazione cuperipugnante si era insinuata nel suo cuore e come reazione immediata aveva suscitato astio dentro di lui poi nel corso della conversazione Smerdyakov era stato momentaneamente accantonato nella memoria ma era rimasto nella sua anima e non appena Ivan Fiodorovic si era congedato da Agiosha per incamminarsi da solo verso casa immediatamente quella sensazione dimenticata aveva iniziato a fare capolino è mai possibile che una tale miserabile carogna possa turbarmi fino a questo punto pensò in un impeto di intollerabile stizza il fatto è che Ivan Fiodorovic aveva cominciato davvero a detestare quell'uomo negli ultimi tempi e soprattutto negli ultimissimi giorni aveva cominciato persino a notare come stesse crescendo in lui tale specie di odio contro quell'essere forse il processo dell'odio si era acuito in quel modo proprio perché all'inizio quando Ivan Fiodorovic era appena arrivato in città le cose erano andate diversamente allora Ivan Fiodorovic aveva manifestato una sorta di particolare interesse nei confronti di Smerdiakov lo aveva trovato perfino originale lo aveva incoraggiato a parlare con lui sebbene si fosse sempre stupito di una certa incoerenza oppure per meglio dire di una certa inquietudine della sua mente senza riuscire a capire che cosa turbasse con tanta imperterrita insistenza quel contemplatore parlavano anche di questioni filosofiche e persino di come potesse splendere la luce il primo giorno quando il sole la luna e le stelle erano stati creati soltanto il quarto giorno e di che interpretazione darne tuttavia Ivan Fiodorovic ben presto salvide che non era questione di sole luce e stelle e che seppure il sole la luna e le stelle potevano essere un argomento interessante per Smerdiakov quella era una questione marginale lui mirava qualcosa di diverso in un modo o nell'altro cominciò a emergere e manifestarsi lo sconfinato e persino oltreggiato amor proprio di Smerdiakov Ivan Fiodorovic non lo gradì molto da questo aveva avuto inizio quel senso di repulsione nei suoi confronti poi erano seguiti il trambusto in casa la comparsa di Grushenka le storie con il fratello Dimitri insomma erano cominciati i guai e i due parlavano anche di questo e sebbene Smerdiakov intraprendesse l'argomento sempre con grande eccitazione anche in quel caso non si riusciva a capire che cosa desiderasse veramente sarà infatti qualcosa di sorprendente nella illogicità e incoerenza di alcuni suoi desideri accidentalmente traditi e sempre vagamente espressi Smerdiakov non faceva altro che fare domande poneva domande indirette ma chiaramente premeditate quale fosse il suo scopo però non lo spiegava e di solito nel momento culminante dei suoi interrogatori si zittiva all'improvviso oppure passava a un altro argomento ma ciò che aveva esasperato definitivamente Ivan Fyodorovich e gli aveva estillato una tale ripulsione nei confronti di Smerdiakov era stata quella ripugnante e particolare familiarità che Smerdiakov aveva cominciato a ostentare verso di lui e che aumentava con il passare del tempo non che si permettesse di essere scortese al contrario si rivolgeva a lui sempre con straordinaria differenza tuttavia aveva cominciato a considerarsi di solo saperché in qualche modo solidale con Ivan Fyodorovich parlava sempre con un tono che sottintendeva una specie di accordo fra loro un qualcosa di segreto qualcosa che era stato pronunciato da entrambi una volta noto solo a loro due ed estraneo alla comprensione dei mortali che brulicavano loro intorno ma per molto tempo Ivan Fyodorovich non aveva riconosciuto la vera causa di quella repulsione crescente solo di recente se ne era leso conto con un senso di avversione e irritazione egli cercò di passare oltre in silenzio e senza guardare Smerdyakov ma questi si alzò dalla panchina e bastò quel gesto perché Ivan Fyodorovich intuisse di colpo che l'altro gli voleva parlare di qualcosa di importante Ivan Fyodorovich lo guardò e si fermò e il fatto di essersi fermato invece di passare oltre come aveva deciso un istante prima lo irritò dal punto da farlo fremere guardava con rabbia e repulsione la fisionomia estenuata da evirato di Smerdyakov con i riccetti delle tempie all'insù e il ciuffetto ben lisciato l'occhio sinistro leggermente socchiuso ammiccava e rideva come per dire dove credi di andare non vorrai passare così non vedi che noi due persone intelligenti dobbiamo fare un certo discorsetto Ivan Fyodorovich sussultò togliti di mezzo carogna non ho niente che spartire con te imbecille erano queste le parole che aveva sulla punta della lingua e invece con sua somma meraviglia gli sfuggì di bocca tutt'altro mio padre dorme ancora o si è svegliato domandò con una voce calma e pacata che neanche lui si aspettava e poi di punto in bianco sempre inaspettatamente si sedette sulla panchina per un attimo ebbe quasi paura lo ricordò in seguito smerdyakov stava in piedi di fronte a lui con le mani dietro la schiena e lo guardava con un'aria sicura persino severa il padrone sta ancora dormendo signore disse parlando senza fretta come a dire sei stato tu il primo a parlare non io il meraviglio di voi signore aggiunse dopo una breve pausa abbassando gli occhi in modo affettato spostando il piede destro in avanti e giocherellando con la punta dello stivale di vernice perché ti meravigli di me domandò Ivan Fiodolovic in tono brusco e severo cercando con tutte le sue forze di controllarsi e ad un tratto comprese con disgusto di provare una straordinaria curiosità e che non sarebbe andato via per nulla al mondo prima di soddisfarla perché vostra signoria non si reca a ermagnia smerdyakov sollevò di colpo lo sguardo e sorrise con aria familiare perché sto sorridendo dovresti capirlo da solo se sei intelligente sembrava dire il suo occhietto sinistro socchiuso perché dovrei andare a ermagnia si stupiva in Fiodolovic smerdyakov restò in silenzio ancora una volta lo stesso Fiodor Paolovic ha pregato vostra signoria di andarci disse finalmente con lentezza apparentemente senza attribuire alcun valore alla propria risposta anzi sembrava che dicesse tiro fuori una scusa qualsiasi tanto per dire qualcosa al diavolo parla chiaro che cosa vuoi gridò con rabbia Ivan Fiodorovic passando di botto da un tono pacato ad uno brutale smerdyakov portò in avanti il piede destro all'altezza del sinistro e si drizzò pur continuando a guardare il suo interlocutore con la stessa calma e lo stesso sorrisetto niente di importante signore ho detto così tanto per fare due chiacchiere seguì un'altra pausa rimasero in silenzio per un minuto circa Ivan Fiodorovic sapeva che avrebbe dovuto alzarsi e mostrarsi indignato smerdyakov gli stava di fronte come in attesa e io resto a guardare se ti arrabbi o no almeno così sembrava Ivan Fiodorovic alla fine fece la mossa di alzarsi smerdyakov sembrò cogliere quell'attimo è orribile la mia situazione Ivan Fiodorovic non so proprio che fare signore disse all'improvviso in tono fermo e scandendo le parole pronunciata l'ultima parola tirò un sospiro Ivan Fiodorovic si risedette immediatamente sono pazzi tutti e due signore tutti e due sono scesi al livello di bambinetti signore prosegue smerdyakov sto parlando del vostro genitore e di vostro fratello Dmitri Fiodorovic signore adesso egli si alzerà Fiodor verrà perché credo che non abbia alcuna intenzione di venire signore ricomincerà la lagna domani mattina perché non è venuta per quale motivo quando verrà come se fosse colpa mia dall'altra parte la stessa storia signore non appena fa buio o anche prima vostro fratello comparirà lì dai vicini con la sua arma in mano vada mi dirà scellerato cucina brodaglie se te la lasci sfuggire e non mi fai sapere che è venuta ti ammazzerò per primo trascorsa la notte domani mattina anche lui come Fiodor Paolovic comincerà a darmi il tormento come mai non è venuta verrà presto e anche ai suoi occhi sarò colpevole per il fatto che la sua signora non si è fatta viva e ogni giorno ogni ora che passerà si adireranno sempre di più tanto che alle volte penso che mi ucciderò per la paura signore non mi aspetto niente di buono da quei due signore e perché ti sei messo in mezzo c'era bisogno di mettersi a fare la spia per Dimitri Fiodorovic replicò stiziosamente Ivan Fiodorovic e come evitare di mettersi in mezzo signore sebbene in vero non mi sia per nulla messo in mezzo se vostra signoria vuole sapere come stanno veramente le cose sin dall'inizio ho tenuto la bocca chiusa non avevo il coraggio di oppormi ma è stato lui stesso a decidere che gli facessi da servo policiarda da allora non ha fatto che ripetermi le stesse parole ti ammazzo scellerato se te le fai scappare sono sicuro signore che domani avrò un lungo malcaduco che cosa intendi per lungo malcaduco un lungo attacco signore eccezionalmente lungo signore durerà alcune ore forse o anche un giorno o due una volta mi durò tre giorni quella volta ero caduto dalla soffitta mi dava tregua per un po' e poi iniziava di nuovo per tre giorni non riuscii a riprendere conoscenza fiodor paulovic mandò a chiamare il gherchen stube il dottore di qui signore quello mi mise il ghiaccio in testa e tentò un altro rimedio avrei potuto morire signore ma dicono che non si possa prevedere quando verrà un attacco di malcaduco allora come fai a dire che ti verrà domani si informò Ivan Fiodorovic animato da una particolare curiosità stizzosa è proprio così non si può prevedere signore e poi quella volta cadesti dalla soffitta ma mi arrampico in soffitta ogni giorno signore anche domani potrei cadere dalla soffitta e se no potrei cadere giù per le scale della cantina anche in cantina ci vado ogni giorno vostra signoria per il mio lavoro Ivan Fiodorovic lo fissò a lungo stai dicendo cose prive di senso lo vedo e io non ti capisco affatto gli disse pacatamente ma con un tono quasi di minaccia non vorresti mica simulare un attacco che durerà tre giorni domani eh Merdiakov che stava di nuovo chino a terra e giocherellava con la punta del piede destro mise giù il piede spostò il sinistro in avanti al posto del destro sollevò il capo e disse ridacchiando anche se fossi capace di fare un simile tiro vostra signoria cioè fingere di avere un attacco e non sarebbe poi così difficile per uno con una certa esperienza sarei nel pieno diritto di ricorrere a questo mezzo per salvare la mia vita dal pericolo di morte già che se Agrafena Aleksandrovna venisse da sua padre mentre io giaccio malato egli non potrebbe chiedere a un malato perché non me lo hai riferito ne proverebbe vergogna a lui stesso al diavolo esclamò di scatto Ivan Fyodorovich con il volto alterato dall'ira perché temi tanto per la tua vita tutte quelle minacce del fratello Dimitri non sono che parole di rabbia e niente di più non ti ucciderà anzi potrebbe uccidere ma non te mi ucciderà come una mosca me prima di tutti signore ma quello che temo di più è un'altra cosa che mi accusino di complicità se quello combina qualche tiro mancino al padre perché mai dovrebbero accusarsi di complicità mi accuseranno di complicità per il fatto che io gli ho riferito quei segnali in gran segreto signore quali segnali a chi li ha riferiti che diavolo ti porti parla più chiaro devo ammettere cantile no smerdiakoff con calma pedantesca che questo è un segreto fra Fyodor Paolovic e me se lo sapete è già qualche giorno che non appena fa notte o addirittura all'imbrunire egli si chiude a chiave dall'interno recentemente avete preso l'abitudine di ritirarvi presto la sera nella vostra camera di sopra anzi ieri non siete uscito per nulla signore ecco perché forse non sapete con quanta premura ha cominciato a chiudersi a chiave per la notte e anche se andasse da lui Grigori Vasilievic non gli aprirebbe fino a quando non ne avesse riconosciuta la voce signore ma Grigori Vasilievic non va da lui perché sono solo io adesso a servirlo nelle sue camere vossignoria ha deciso da quando è iniziata quella storia con Grafena Aleksandrovna ma di notte anch'io devo andare a dormire nella dipendenza secondo le sue disposizioni però fino a mezzanotte non posso addormentarmi devo stare allerta devo alzarmi a fare il giro del cortile e aspettare che arrivi a Grafena Aleksandrovna dal momento che il padrone la aspetta da alcuni giorni come fuori di sé e gli ragiona così signore lei ha paura dice lui di Dimitri Fiodorovic Micca come lo chiama per questo verrà da me a tardanotte dal retro tu dice a me fa la guardia fino a mezzanotte e passa e se lei dovesse venire corri alla mia porta e bussa oppure bussa alla finestra che dà sul giardino due volte piano così uno due e poi tre volte più veloce toc toc e io capirò subito che lei è venuta e ti aprirò pian pianino mi ha comunicato un altro segnale per i casi urgenti prima due colpi veloci toc poi dopo un po' ancora un colpo molto forte così lui capisce che è successo qualcosa di improvviso e che io ho urgenza di vederlo mi aprirà io entrerò e riferirò sempre nel caso che a Grafena Aleksandrovna sia impossibilitata a venire di persona e mandi qualcuno con un messaggio inoltre potrebbe arrivare Dmitri Fiodorovic e quindi devo avvertirlo che egli si trova nei paraggi ha molta paura di Dmitri Fiodorovic tanto che se anche a Grafena Aleksandrovna dovesse venire e essi fossero chiusi in casa insieme e Dmitri Fiodorovic dovesse trovarsi da queste parti in quel momento io sono tenuto a farglielo sapere immediatamente bussando tre volte insomma il primo segnale di cinque colpi significa che è arrivata a Grafena Aleksandrovna mentre il secondo segnale di tre colpi significa ho qualcosa di importante da riferire il padrone mi ha fatto degli esempi per insegnarmi e spiegarmi quei segnali e dal momento che in tutto l'universo questi segnali li conosciamo solo io e il padrone egli senza alcuna esitazione senza alzare la voce ha molta paura che si parli ad alta voce aprirà la porta ma ecco che adesso anche Dmitri Fiodorovic è venuto a conoscenza di quei segnali come fa a conoscerli? glieli hai riferiti tu come hai osato farlo? sempre per paura signore come avrei potuto tacere davanti a lui signore? Dmitri Fiodorovic non faceva che insistere ogni giorno tu mi stai imbrogliando tu mi nascondi qualcosa ti spezzo tutte e due le gambe e così gli ho detto pure quei segnali segreti in modo che perlomeno si rendesse conto della mia soggezione e si convincesse che non lo sto imbrogliando e che invece gli riferisco ogni cosa se pensi che intenda fare uso di quei segnali e gli venga voglia di entrare tu impediscilielo ma quando giacerò a letto impeda un attacco come farò a non farlo passare signore? ammesso che io possa ormai osare impedirglielo sapendo quanto è disperato signore ah che il diavolo ti porti come fai ad essere così sicuro che ti verrà il mal caduco che il diavolo ti fulmini ti stai prendendo gioco di me come potrei osare prendermi gioco di voi e poi potrei avere voglia di scherzare con una simile paura addosso sento che mi prenderà il mal caduco a questo presentimento non fosse altro che per la paura signore al diavolo quando tu sarai a letto farà la guardia a Grigori avvisa per tempo Grigori e sarà lui a non farlo entrare senza l'ordine del padrone non comunicherà per nessun motivo i segnali a Grigori signore quanto al fatto che Grigori Vasilievic possa sentire i rumori e impedirgli di entrare egli proprio oggi si è ammalato per il colpo di ieri e Marfa Ignatevna ha intenzione di sottoporlo alla cura domani l'hanno appena deciso e la sua cura è molto curiosa signore Marfa Ignatevna conosce un preparato e lo tiene sempre a portata di mano signore è potente fatto di una certa erba lei ne conosce il segreto e con quella medicina segreta cura Grigori Vasilievic tre volte all'anno circa signore quando gli si bloccano completamente le reni gli prende come una paralisi signore gli capita tre volte all'anno circa allora Marfa Ignatevna prende un asciugamano signore lo imbeve in quel preparato e lo sfrega per una mezz'ora su tutta la schiena finché non lo assorbe per benino e la schiena non diventa tutta rossa e gonfia signore quello che rimane nella boccetta glielo fa bere con una certa preghierina signore ma non tutto perché in quella rara occasione ne lascia un po' anche per sé e se lo beve signore e vi assicuro signore che dal momento che non sono abituati a bere tutti e due cascano immediatamente dal sonno e dormono sodo per un pezzo e quando Grigori Vasilievici si alza dopo quel trattamento quasi sempre è guarito signore mentre quando si alza Marfa Agnatevna ha sempre mal di testa signore quindi se domani Marfa Agnatevna metterà in atto il suo proposito è molto improbabile che sentano qualcosa e impediscano a Dimitri Fiodorovic di entrare signore staranno dormendo signore che assurdità tutte queste sciocchezze così all'improvviso tu con il mal caduco e loro due privi di coscienza gridò Ivan Fiodorovic non sarai mica tu stesso a fare in modo che tutto questo coincida gli sfuggì a bruciapelo e aggrottò minacciosamente le sopracciglia come potrei signore e a che scopo quando tutto dipende unicamente da Dimitri Fiodorovic signore unicamente dai suoi pensieri se gli verrà in mente di fare qualcosa lo farà signore se no non sarò certo io a spingerlo di proposito contro il genitore e per quale motivo dovrebbe recarsi da nostro padre e per di più alla chitichella se come tu stesso dici Agrafena Aleksandrovna non verrà affatto soggiunse Ivan Fiodorovic pallido dalla stizza lo dici tu stesso e anch'io vivendo qui mi sono convinto che è soltanto una fantasia del vecchio e che quella canaglia non verrà affatto per quale motivo mai Dimitri dovrebbe fare irruzione dal vecchio se quella non verrà parla voglio conoscere i tuoi pensieri lo sapete da voi per quale motivo verrà a che vi serve conoscere i miei pensieri verrà semplicemente perché sarà mosso dall'ira oppure dal sospetto nel caso per esempio che io mi ammali sarà assalito dai dubbi e impaziente verrà a rovistare nelle stanze come ha fatto ieri per vedere se quella non sia sgattaiolata dentro di nascosto è perfettamente al corrente che Fiodor Paolovic tiene pronta una grossa busta in cui sono sigillati 3000 rubli vi sono apposti tre sigilli ed è legata con un nastrino e su di essa Fiodor Paolovic ha scritto di suo pugno al mio angelo Grishenka che vorrà venire da me e tre giorni dopo ha aggiunto per la mia gallinella proprio questo fa sorgere dei dubbi signore idiozie urlò Ivan quasi fuori di sé Dimitri non andrà mai a rubare il denaro e non ucciderà nostro padre per questo avrebbe potuto ucciderlo ieri a causa di Grishenka da pazzo furioso e imbecille qual è ma non andrà a derubarlo in questo momento ha urgente bisogno di denaro signore un bisogno impellente Ivan Fiodorovic voi non immaginate neanche quanto ne ha bisogno spiegò Smerdiakov con estrema calma e con straordinaria precisione considera quei 3000 rubli come fossero suoi signore lui stesso mi ha detto il mio genitore mi deve ancora 3000 rubli esatti esatti oltre a questo Ivan Fiodorovic prendete atto anche di un'altra verità sacrosanta signore è quasi sicuro bisogna dire signore chi ha grafene alexandrovna se solo lo volesse potrebbe benissimo costringerlo a sposarla il padrone voglio dire cioè Fiodor Paolovic signore e forse lei lo vorrà io ho detto che lei non verrà così per dire ma forse lei mira più in alto e cioè a diventare direttamente la padrona qui so di sicuro che il suo mercante Samsonov le ha detto in assoluta franchezza che questo sarebbe un affare tutt'altro che sventato e rideva mentre diceva questo e anche lei è tutt'altro che sventata signore lei non sposerà mai uno spiantato come Dmitri Fiodorovic signore pertanto considerando tutto questo Ivan Fiodorovic riflettete sul fatto che né a Dmitri Fiodorovic né a voi e a vostro fratello Alexei Fiodorovic resterà più nulla dopo la morte del padrone neanche un rublo perché Agrafena Aleksandrovna lo sposerà solo per ereditare tutto e farà intestare tutti i capitali di cui dispone a suo nome signore mentre se vostro padre dovesse morire adesso finché tutto questo non è ancora accaduto vi toccherebbero subito perlomeno 40.000 rubli a testa signore perfino a Dmitri Alessandrovic che gli odia tanto perché non ha fatto testamento Dmitri Fiodorovic questo lo sa molto bene una specie di contrazione e un fremito sembrarono attraversare il volto di Ivan Fiodorovic egli aveva un po' di colpo ma allora per quale motivo egli interruppe bruscamente Smerdiakov dopo tutto quello che hai detto mi consigli di andare a Hermashnia che cosa volevi dire con questo che se io partissi accadrebbe tutto questo Ivan respirava a fatica proprio così signore replicò Smerdiakov con aria calma e giudiziosa ma sempre con lo sguardo fisso su Ivan Fiodorovic come sarebbe proprio così incalzò Ivan Fiodorovic che si tratteneva a stento con gli occhi che gli scintillavano minacciosi ho parlato perché mi dispiace per voi se mi trovassi al vostro posto lascerei perdere tutto al più presto piuttosto che trovarmi in una simile situazione signore rispose Smerdiakov con franchezza guardando gli occhi scintillanti di Ivan Fiodorovic entrambi restarono in silenzio mi sembri un perfetto idiota e quel che è peggio un gran farebutto Ivan Fiodorovic si alzò di scatto dalla panchina avrebbe voluto imboccare senza girarsi la porticina ma un tratto si fermò e si girò verso Smerdiakov accadde un fatto strano Ivan Fiodorovic come per uno spasmo si morse un labbro strinse i pugni e questione di attimi si sarebbe scagliato su Smerdiakov l'altro lo notò istantaneamente trasalì e si ritrasse con tutto il corpo all'indietro ma quell'attimo passò senza danni per Smerdiakov Ivan Fiodorovic oltrepassò la porticina in silenzio ma con una certa perplessità domani parto per Mosca se ci tieni a saperlo domani mattina presto ecco tutto gli disse all'improvviso con voce alta distinta e stizzosa in seguito si domandò come mai avesse sentito il bisogno di dire quelle parole a Smerdiakov in quel momento è la cosa migliore che vostra signoria possa fare ribatté l'altro come se si fosse aspettato esattamente quelle parole solo che se andrete a Mosca vi potranno incomodare da qui con un telegramma se dovesse succedere qualcosa signore Ivan Fiodorovic si fermò e si voltò di nuovo bruscamente verso Smerdiakov ma anche in Smerdiakov era avvenuto un cambiamento la sua area di familiarità e non curanza era svanita di colpo ogni fibra del suo viso esprimeva un'attenzione straordinaria e un'attesa timida e servile questa volta come se volesse dire non devi dirmi altro non hai niente da aggiungere questo si leggeva nel suo sguardo immobile piantato fisso su Ivan Fiodorovic perché a Hermasnia non mi potrebbero mandare a chiamare nel caso in cui accadesse qualcosa strillò Ivan Fiodorovic alzando esageratamente la voce senza sapere neanche lui il perché anche a Hermasnia signore si potrebbero disturbare murmurò Smerdiakov con un soffio di voce con l'aria quasi smarrita ma continuando a fissare a fissare Ivan Fiodorovic dritto negli occhi solo che Mosca è più lontana mentre Hermasnia è più vicina che ti dispiace per i soldi del viaggio visto che insisti tanto per Hermasnia o ti dispiace che io faccia un giro così lungo proprio così signore murmurò Smerdiakov con voce ormai rotta aveva un sorrisetto strafottente sulle labbra e ancora una volta si era preparato convulsamente a fare per tempo un balzo all'indietro invece Ivan Fiodorovic con grande meraviglia di Smerdiakov scoppiò a ridere e imbocco rapido la porticina sempre continuando a ridere chi avesse guardato il suo viso in quel momento avrebbe probabilmente concluso che non stava ridendo per allegria e neanche lui avrebbe mai potuto spiegare che cosa gli fosse preso in quel momento si muoveva e camminava convulsamente anche due chiacchiere con un uomo intelligente sono interessanti e parlava anche convulsamente appena entrato in salone incontrò Fiodor Paolovic e gli gridò a bruciapelo agitando le braccia sto andando in camera mia non da voi arrivederci e passo oltre cercando di evitare di guardare il padre è molto probabile che in quel momento il vecchio gli fosse insopportabilmente odioso ma una così sfacciata manifestazione di ostilità fu una sorpresa persino per Fiodor Paolovic il vecchio dal canto suo evidentemente voleva comunicargli qualcosa di urgente e proprio per quello gli era andato incontro nel salone dopo questo gentile saluto il vecchio si fermò ammutolito e con aria ironica seguì con lo sguardo il caro figliuolo che saliva di sopra fino a che quello non fu scomparso che gli ha preso domandò in fretta a Smerdiakov che era entrato subito dopo Ivan Fiodorovic sarà arrabbiato per qualcosa chi lo capisce signore rubutò evasivamente ma il diavolo che si arrabbi pure porta il samovar e togliti dai piedi al più presto muoviti c'è qualche novità seguirono tutte quelle domande delle quali Smerdiakov si era appena lamentato con Ivan Fiodorovic sul conto dell'attesa visitatrice ma noi le tralasceremo mezz'ora più tardi la casa era stata chiusa a chiave e il vecchio pazzo si aggirava solo per le stanze in trepidante attesa che da un momento all'altro si udissero i cinque colpi convenuti di tanto in tanto sbirciava dalle finestre buie senza vedere nient'altro che la notte era già molto tardi ma Ivan Fiodorovic non stava dormendo pensava andò a letto molto tardi quella notte verso le due ma noi non tenteremo di riferire l'intero corso dei suoi pensieri non è questo il momento di penetrare nella sua anima verrà il turno anche per essa e anche se tentassimo di riferire qualcosa sarebbe molto complicato farlo perché non si tratta di pensieri ma di qualcosa di molto confuso e soprattutto troppo agitato si rendeva conto da solo di aver perso il controllo lo tormentavano desideri strani quasi sconcertanti per esempio dopo la mezzanotte fu assalito da un desiderio insistente e insopprimibile di scendere aprire la porta andare nella dipendenza e picchiare smerdiakov ma se gli avessero chiesto i motivi egli decisamente non ne avrebbe potuto citare nemmeno uno con esattezza tranne forse che quella che gli era venuto in odio come il peggiore oltraggiatore che si potesse trovare al mondo d'altro canto quella notte fu assalito più di una volta da una soggezione inesplicabile e umiliante che li procurava addirittura e gli se ne rendeva conto l'esaurimento delle energie fisiche la testa gli doleva e gli girava un sentimento di odio gli attanagliava l'anima come se fosse sul punto di vendicarsi di qualcuno odiava persino agli oscia ricordando la conversazione avuta con lui a momenti odiava a se stesso a Caterina Ivanovna non ci pensò nemmeno e questo lo meravigliò molto in seguito soprattutto perché ricordava perfettamente che quando si era vantato così smaccatamente soltanto la mattina prima in presenza di Caterina Ivanovna dicendo che l'indomani sarebbe partito per mosca dentro di sé si sussurrava che assurdità non partirai il distacco non ti sarà facile come ti vai vantando tornando con la mente a quella notte in seguito Ivan ricordava con particolare repulsione i momenti in cui si alzava bruscamente dal divano e furtivamente con una strana paura addosso come se fosse spiato apriva la porta usciva per le scale e si metteva in ascolto per sentire Fyodor Paulovic che si agitava e camminava al piano di sotto rimaneva ad ascoltare per un pezzo anche cinque minuti buoni con una strana curiosità con il fiato sospeso e con il cuore in tumulto ma il motivo per cui stava facendo tutto ciò il motivo per cui stava in ascolto ovviamente lo ignorava anche lui per tutta la vita definì quel gesto infame e dentro di sé nel profondo della sua anima egli la considerò sempre l'azione più vile della sua vita in quel momento non provava alcun odio per Fyodor Paulovici se sentiva soltanto e chissà per quale ragione un'invincibile curiosità cercava di immaginare come stesse camminando al piano di sotto che cosa stesse facendo nella sua stanza in quel momento si domandava come stesse sbirciando attraverso le finestre scure e si fermasse al centro della stanza e aspettasse aspettasse per sentire se bussava qualcuno Ivan Fyodorovic uscì apposta un paio di volte sulla scala quando finalmente tutto si acquietò e Fyodor Paulovic si fu coricato intorno alle due di notte si coricò pure Ivan Fyodorovic con il vivo desiderio di addormentarsi immediatamente tanto si sentiva sfinito e fu così si addormentò di sasso e non fece sogni ma si svegliò presto verso le sette ad alba fatta aprendo gli occhi fu sorpreso di sentirsi pieno di un'insolita energia balzò rapidamente giù dal letto e si vestì in fretta poi tirò fuori la valigia e cominciò subito a riempirla la biancheria gli era arrivata giusto la mattina prima dalla lavandaia Ivan Fyodorovic sorrise persino al pensiero che tutto contribuisse a facilitare l'improvvisa partenza e la sua partenza era senza dubbio improvvisa sebbene Ivan Fyodorovic avesse detto il giorno prima a Caterina Ivanovna ad Aglioscia e poi a Smerdiakov che sarebbe partito l'indomani si ricordò di non aver affatto pensato alla partenza quando era andato a letto o almeno non aveva minimamente pensato che la prima cosa che avrebbe fatto l'indomani svegliandosi sarebbe stata quella di affrettarsi a fare le valigie finalmente la valigia e la borsa da viaggio furono pronte erano all'incirca le nove quando Marfa Gnatevna entrò nella sua stanza con la solita domanda di ogni giorno dove volete prendere il tè in camera o di sotto Ivan Fyodorovic scese con un'aria quasi allegra sebbene in lui nelle sue parole nei suoi gesti ci fosse qualcosa di scomposto ed affrettato dopo aver affabilmente salutato il padre ed essersi premurosamente informato sulla sua salute senza aspettare tuttavia che il padre finisse di rispondere egli gli annunciò che sarebbe partito per Mosca di lì a un'ora per sempre e gli chiese di mandare a prendere i cavalli al più presto il vecchio ascoltò la notizia senza manifestare la minima meraviglia e dimenticò in modo a dir poco sconveniente di rammaricarsi per la partenza del caro figliuolo invece si mise subito in agitazione come ricordando a proposito un suo affare personale della massima importanza che tipo che sei potevi dirmelo ieri ma non fa niente sistemeremo ogni cosa lo stesso fammi un grande favore ragazzo mio passa da Ermashnia devi soltanto svoltare a sinistra alla stazione di Volovia in tutto una dozzina di verste e sei arrivato a Ermashnia spiacente ma non posso è a 80 verste dalla ferrovia e il treno per Mosca parte dalla stazione alle 7 di sera faccio appena in tempo a prenderlo lo prenderai domani o dopodomani ma oggi svolta a Ermashnia che ti costa fare contento tuo padre se non avessi degli affari che mi trattengono ci sarei andato io stesso da un pezzo perché lì ho un affare urgente e della massima importanza ma adesso non ne ho il tempo vedi ho un boschetto da quelle parti diviso in due appezzamenti uno a Bejejevo e l'altro a Diaeschino fra terreni incolti i Maslov il vecchio mercante e suo figlio vogliono darmi soltanto 8.000 rubli per il taglio del bosco mentre solo l'anno scorso mi è sfuggito un acquirente che mi ne avrebbe dati 12.000 ma lui non è di queste parti ecco il problema tra la gente di qui non ce n'è molta che voglia comprarlo i Maslov padre e figlio fanno il bello e il cattivo tempo quelli posseggono 100.000 rubli devi prenderti quello che dicono loro e fra la gente locale nessuno ha il coraggio di mettersi contro di loro il curato di Linskwe mi ha scritto inaspettatamente giovedì scorso che è arrivato Gorskin un mercantuccio pure lui lo conosco io quello che ha di buono però è di non essere da queste parti ma di Pogrebovo quindi non teme i Maslov perché non è di queste parti dice che mi darà 11.000 rubli per quel boschetto capisci? e il prete mi scrive che resterà solo un'altra settimana quindi se tu ci andassi e ti mettessi d'accordo con lui scrivete al curato che si metta d'accordo lui non lo saprebbe fare questo è il problema non ha fiuto per gli affari è un vero tesoro gli darai 20.000 rubli da amministrare da parte mia senza chiedere alcuna ricevuta ma non ha fiuto per gli affari è come un bambino lo prenderebbe in giro anche un corvo eppure è un uomo istruito si crederesti questo Gorskin ha l'aspetto di un contadino porta una podevca azzurra ma di carattere un mascalzone di questo si lamentano tutti mente spudolatamente ecco qual è il guaio a volte inventa di quelle bugie che la gente si domanda perché lo faccia due anni fa mi disse che la moglie era morta e lui si era risposato e non era vero affatto immagina un po' la moglie non era morta è viva e vegeta e adesso lo picchia un paio di volte alla settimana quindi quello che devi scoprire è se sta mentendo o dice la verità quando sostiene di voler comprare e di essere disposto a pagare 11.000 rubli ma anche io non posso farci nulla neppure io ho il fiuto per gli affari no aspetta tu sarai utilissimo perché io ti dirò tutti i segnali per capire quel gorskin è un pezzo che faccio affari con lui vedi devi guardargli la barba ha una brutta barbetta rossiccia e rada e la barbetta sobalza mentre lui parla e si altera va bene vuol dire che sta dicendo la verità e vuole concludere l'affare se si liscia la barba con la mano sinistra e ridacchia significa che sta tentando di metterti nel sacco sta imbrogliando non guardarlo mai negli occhi per gli occhi non ti ciracca pezzi è un tipo losco un imbroglione guardagli la barba invece ti darò un biglietto e tu glielo mostrerai si chiama gorskin ma lo chiamano gli agavi ma tu non lo chiamare gli agavi altrimenti si offende se giungi a un accordo con lui e vedi che è tutto a posto scrivimi subito scrivimi soltanto non sta mentendo insisti per 11.000 puoi scendere di un migliaio ma non di più pensa un po' 8 contro 11.000 3.000 di differenza è come se li avesse trovati quei 3.000 rubli e dove la trovi su due piedi un acquirente invece io ho disperatamente bisogno di soldi fammi solo sapere se fa sul serio per il resto farò un salto io da qui e concluderò lo troverò il tempo in qualche modo ma a che serve che mi precipiti adesso se si tratta solo di un'invenzione del curato allora ci vai o no non ho tempo lasciatemi in pace oh ha un favore a tuo padre me ne ricorderò siete tutti senza cuore voi ecco che vi dico che cosa conta un giorno o due dove ha intenzione di andare a Venezia non crollerà mica la tua Venezia per un paio di giorni avrai mandato agli oscia ma chi può combinare agli oscia in affari del genere mando te perché sei un uomo intelligente credi che non me ne renda conto non sei pratico di legname ma hai fiuto e in questo caso devi soltanto appurare se quell'uomo sta parlando seriamente oppure no te lo ripeto guardagli la barba se sobbalza vuol dire che fa sul serio siete voi stessi a spingermi ad andare in quella maledetta ermasnia eh proruppa Ivan Fyodorovic con un sorriso maligno Fyodor Paolovic non colse la malignità o forse non volle coglierla ma sfruttò il sorrisetto vuol dire che ci vai ci vai adesso butto giù due righe non so se ci andrò deciderò durante il tragitto che stupidaggine decidi adesso su caro decidi se giungi a un accordo mi scrivi due righe le dai al curato e lui mi farà recapitare subito il tuo bigliettino e poi non ti tratterrò più va pure a Venezia il curato ti darà i suoi cavalli per raggiungere la stazione di Volovia il vecchio era semplicemente in brodo di giugiole scrisse il biglietto mandò a prendere i cavalli servirono uno spuntino del cognac quando il vecchio era contento diventava sempre espansivo ma quella volta sembrava che si contenesse sul conto di Dimitri Fiodorovic per esempio non disse una parola non era affatto commosso per la partenza anzi sembrava che non avesse niente da dire e Ivan Fiodorovic se ne accorse molto bene devo essergli venuto a noia però pensò fra sé e sé solo mentre accompagnava il figlio giù per la scaletta d'ingresso della casa il padre cominciò ad agitarsi un po' sembrava che volesse baciarlo ma Ivan Fiodorovic si affrettò a tenergli la mano con la palese intenzione di evitare i baci il vecchio lo capì subito e si fermò all'istante beh va con Dio va con Dio gli ripeteva dal terrazzino tornerai ancora una volta o l'altra nella vita cerca di venire ne sarò sempre felice beh che Cristo ti accompagni Ivan Fiodorovic salì nella carrozza addio Ivan non mi biasimare troppo gli gridò il padre per ultimo la servitù al completo era uscita per salutarlo Smerdiakov Marfagnatevna e Grigori Ivan Fiodorovic regalò loro dieci rubli a testa quando fu seduto in carrozza Smerdiakov gli balzò accanto per sistemargli la coperta da viaggio vedi sto andando a Ermashnia sfuggì a Ivan Fiodorovic ancora una volta come il giorno prima le parole gli uscirono involontariamente e accompagnate da un risolino nervoso ricordo a lungo questo fatto vuol dire che la gente ha ragione quando dice che anche due chiacchiere con un uomo intelligente sono interessanti replicò con fermezza Smerdiakov guardando con aria significativa Ivan Fiodorovic la carrozza dette uno scossone e partì a sprombattuto tutto era confuso nell'anima del viaggiatore ma gli guardava avidamente i campi tutti intorno le colline gli alberi gli stormi di oche che volavano alto nel cielo limpido e sentì un improvviso benessere provò ad attaccare il discorso con il vetturino e si interessò enormemente alle risposte che il contadino gli dava ma un minuto dopo si rese conto che non aveva nemmeno prestato orecchio a quanto diceva il contadino e che neppure aveva capito quello che rispondeva tacque ma stava bene anche così l'aria era tersa fresca pungente il cielo era limpido fecero per balenagli in mente le immagini di Agiosha e di Caterina Ivanovna ma sorrise dolcemente e dolcemente soffia via i loro cari fantasmi ed essi svanirono ci sarà tempo anche per loro pensò raggiunsero presto la stazione cambiarono i cavalli e partirono al galoppo alla volta di Volovia perché anche i due chiacchiere con un uomo intelligente sono interessanti che cosa aveva voluto dire questo pensiero sembrò togliergli il respiro e perché io gli ho detto che andavo a Ermaznia raggiunsero di gran carriera la stazione di Volovia Ivan Fiodorovich scese dalla carrozza e i vetturini gli si fecero intorno mercanteggiarono il prezzo per portarlo a Ermaznia dodici verste di strada vicinale su cavalli privati egli ordinò di attaccare i cavalli entrò dentro la stazione di posta si guardò intorno gettò uno sguardo alla moglie del sorvegliante e subito tornò sul terrazzino di ingresso non serve andare a Ermaznia faccio in tempo a raggiungere la stazione ferroviaria per le sette fratelli vi accontenteremo subito attacchiamo i cavalli allora immediatamente qualcuno di voi si reca in città domani come no c'andrà Mitri puoi farmi un servizio Mitri va da mio padre Fiodor Paolovic Karamazov e digli che non sono andato a Ermaznia puoi farlo perché no ci passerò conosciamo da un pezzo Fiodor Paolovic eccoti qualcosa per te perché credo che lui non ti darà nulla scoppiò a ridere allegramente Ivan Fiodorovic ci potete scommettere che non mi darà nulla si mise a ridere anche Mitri grazie signore e seguirò senz'altro alle sette di sera Ivan Fiodorovic saliva sul treno e partiva per Mosca alle spalle il passato ho chiuso con il vecchio mondo per sempre che non me ne giunga più alcuna notizia alcuna eco verso un nuovo mondo verso luoghi nuovi senza più guardare indietro ma invece che dall'entusiasmo la sua anima fu invasa all'improvviso dalle tenebre e il suo cuore si riempì di una tristezza quale non aveva mai provato in vita sua passò tutta la notte a pensare intanto il treno viaggiava veloce solo verso l'alba alle porte di Mosca fu come se tornasse in sé sono vigliaco sussurrò per se stesso invece Fiodor Paolovi dopo aver accompagnato il figlio rimase molto soddisfatto per due ore buone si sentì quasi felice mentre sorseggiava il suo cognacchino ma a un tratto in casa successe un incidente molto fastidioso ed estremamente spiacevole per tutti che sconvolse in un baleno la disposizione di spirito di Fiodor Paolović Smerdiakov era andato in cantina a prendere qualcosa ed era accaduto dalla cima della scala per fortuna Marfa Gnatevna in quel momento si trovava nel cortile e aveva sentito in tempo non aveva assistito alla caduta però aveva sentito un urlo un urlo particolare strano ma che conosceva da tempo il grido dell'epilettico in preda ad un attacco nessuno fu in grado di stabilire se l'attacco gli fosse venuto mentre scendeva gli scalini in questo caso doveva essere cascato in stato di incoscienza oppure al contrario se l'attacco fosse sopravvenuto Smerdiakov epilettico dichiarato in seguito alla caduta e all'agitazione fatto sta che lo trovarono che si dibatteva sul pavimento della cantina in preda a brividi e convulsioni con la bava alla bocca all'inizio pensarono che si fosse rotto qualcosa un braccio o una gamba e che si fosse storpiato invece Dio lo aveva risparmiato come si espresse Marfa Gnatevna non era accaduto nulla del genere solo che fu difficile tirarlo fuori dalla cantina alla luce del sole ma chiesero aiuto ai vicini e in un modo o nell'altro ce la fecero Fiodor Paolovic in persona assistente a tutta la cerimonia anche lui dette una mano visibilmente spaventato a morte come smarrito il malato però non riacquistò conoscenza anche se gli attacchi cessavano ad intervalli si rinnovavano in continuazione e tutti giunsero alla conclusione che sarebbe accaduta la stessa cosa dell'anno prima quando era accidentalmente caduto giù dalla soffitta si ricordarono che quella volta gli avevano messo il ghiaccio in testa c'era ancora del ghiaccio in cantina e Marfa Gnatevna provvide a prenderlo e applicarlo mentre Fiodor Paolovic verso sera mandò a chiamare il dottor Gercen Stube che si presentò immediatamente sottopose il malato ad una visita accurata era il medico più accurato e scrupoloso di tutto il governatorato un vecchietto avanti con gli anni e rispettabilissimo e concluse che si era trattato di un gravissimo attacco che poteva minacciare serie conseguenze e che dal momento che lui Gercen Stube non aveva ancora capito del tutto il domani mattina se non avessero apportato beneficio ai rimedi somministrati ne avrebbe adottati degli altri il malato fu trasportato alla dipendenza nella stanzetta accanto alle stanze di Grigori e Marfa Gnatevna nel resto della giornata Fiodor Paolovic dovette subire una disgrazia dopo l'altra toccò a Marfa Gnatevna preparare il pranzo e la sua zuppa in confronto a quella degli Smerdiakov riuscì pari pari alla risciacquatura dei piatti mentre il pollo era così secco che non c'era verso di masticarlo ai duri ma giusti rimproveri del padrone Marfa Gnatevna replicò che comunque il pollo era molto vecchio e che lei non aveva mai studiato per diventare cuoca verso sera un altro guaio aspettava Fiodor Paolovic gli riferirono che Grigori che negli ultimi tre giorni non era stato bene adesso era assolutamente costretto a stare a letto per il mal di Reni Fiodor Paolovic finì il suo tè al più presto e si serrò in casa tutto solo si trovava in uno stato di attesa sfasmodica e agitata il fatto è che era convinto che Grushenka sarebbe andata da lui proprio quella sera o almeno Smerdiakov glielo aveva dato quasi per certo quella mattina sul presto che ella aveva promesso di venire sicuramente il cuore dell'incorregibile vecchietto batteva eccitato e gli si aggirava per le sue stanze vuote con l'orecchio teso all'ascolto doveva stare allerta Dimitri Fiodorovic poteva stare appostato da qualche parte e quando lei avrebbe picchiato alla finestra Smerdiakov aveva assicurato due giorni prima a Fiodor Paolovic di averle riferito dove e come bussare allora bisognava aprire la porta al più presto a nessun costo e la doveva rimanere un secondo di più nell'andito per evitare che Dione Scampi si spaventasse e scappasse via Fiodor Paolovic aveva molte cose delle quali preoccuparsi eppure il suo cuore non si era mai deliziato in un mare di dolci speranze come quella sera questa volta si poteva infatti dire quasi con certezza che ella sarebbe andata da lui che Grazie a tutti.